Ok, siamo usciti. Allora avremmo potuto fare la stessa cosa su questa, giusto? Siamo di nuovo. Sì, sì. Online. Perfetto, va benissimo. Tanto non abbiamo fatto vedere nulla, quindi non serve neanche salvarle. Allora, capire se questa è quella nuova, no? In diretta. Ah, ecco, questa è quella da adesso, no? Penso se mi guardo anch'io come faccio tante volte se mi guardo quella di prima. Io sarei anche capace, eh? No, no, se sei tu, alza la mano. Alza la mano? Sì, allora, sei tu, sì. Sono io? Sì. Ma io dicevo qua, sul mio tab. Eh? Allora, ci siamo ragazzi, eccoci di nuovo. Perfetto, ragazze, portate pazienza, ma evidentemente la musica latina ha dato un po' di fastidio ai social, perché quando all'inizio della diretta ci blocca spesso il motivo di solito è proprio la musica, insomma. Quindi, ecco, tanto non avevamo detto o fatto nulla, quindi aspettiamo un attimino che si collegano un po' di persone, così poi, ecco, ciao Giorgia, ciao Irina, così poi diamo un po' di info e poi finalmente partiamo con la diretta di oggi. Lo stiamo. Sapete ragazzi che oggi è la diretta del giovedì dedicata agli sconti. Sì, allora, oggi vi faremo vedere anche tante borze in saldo. Le abbiamo numerate per facilitare, insomma, la vendita, ma poi, ovviamente, come sempre, abbiamo anche tanto abbigliamento. Ok? Allora, io intanto perdo un po' di tempo, così vi do modo di potervi... Che c'è? Non funziona? No, un attimo dovevo trovare la pagina. Però qualcosa di strano, cioè, eh, perché a me non mi scorrono neanche i messaggi. Eccola. Eccoci qua. Dove? Vabbè. Ragazzi, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Eh, ma noi ti leggiamo, sei adesso in pagina, Monica. Ciao, Sabina. Ciao, ragazze, buon pomeriggio. C'è qualcuno anche sulle altre pagine? Allora, ragazze, portate un po' di pazienza, perché abbiamo chiuso momentaneamente la diretta e stiamo ripartendo, perché dava problemi, insomma. Si interrompeva, c'era qualcosa di strano, ma chissà, o la connessione o probabilmente la musica che spesso per via del copyright, dei diritti d'autore, eccetera, ci dà qualche problemino. Siamo ripartiti, vediamo se si interrompe e speriamo che tutto va bene. Poi, chiaramente, considerando anche il maltempo che c'è in questi giorni, anzi, io mi reputo sin troppo fortunata che tutto sommato la connessione in questi giorni è andata fin troppo bene, insomma. Ciao, Patrizia, buon pomeriggio, ragazze, ben ritrovate. Ciao, Antonella, Lina, Sabina l'abbiamo già salutata, Barbara. Eccoci qua, vabbè, dai, siamo ritornate alla normalità. Ecco, piano piano vi state collegando. Benissimo. Ok. Ciao, Sonia. Buon pomeriggio a tutte, ben ritrovate. Come sapete, stavo, ciao Marilena, stavo dicendo, oggi è giovedì, quindi ormai il giovedì è diventato un appuntamento fisso, ciao Nausica, quello delle, eh, dei saldi, delle offerte. Ehm, aspettati che vedo. Io non ce l'ho proprio. Allora, signora Monica, mi dice che ha scritto su WhatsApp per ordinare e non ha avuto risposta, ma noi non troviamo il suo messaggio. Ma se non ha scritto magari il suo nome, noi neanche sappiamo chi è, magari. Faccia, mi faccia una cortesia, dietro al numero WhatsApp, nome e cognome, si registra. Sì, guardi signora, eccolo qui il numero, ci mandi un messaggino in questo momento su WhatsApp, così io le rispondo in diretta, così siamo sicuri che lei è registrata. Ciao Maria, ciao Valentina, ciao Tiziana, ciao Maria Rosaria, Nausica, Marilena, buon pomeriggio ragazze. L'ho vista anche in pagina Facebook, adesso è qui su Instagram, quindi per vedere la vediamo. Io non ce l'ho la signora Monica, a Novi, a Novi Monica, io non ce l'ho, a meno che non mi abbia scritto e non ha scritto un suo nome, magari. Oh, abbiamo anche Salvatore Cocorullo tra noi, Salvatore che cosa ti vuoi comprare oggi? Ciao caro, io una volta c'avevo un amico, sai ti che si chiamava Salvatore Cocorullo, però ho un sacco di tempo che non lo vedo, ma vabbè, pazienza. Ah, ma è Puma, non l'ho riconosciuto. No, lui, questo è il nome vero suo. Ah, ok, ok, non l'avevo riconosciuto. Ah, è vero perché di là è Puma, Salvatore, guarda pure sui nomi, vai macello, pure sui nomi. Ma infatti non l'avevo proprio riconosciuto. Come stai, è andato tutto bene? Vabbè, poi ci sentiamo in privato con calma, dai. Falla una telefonata ogni tanto all'amico tuo, a me, che ne so, quando ti ricordi, eh. A me? Ma quello, ma pure a te, Salvatore, anche a Tiziana, che ne so. Se uno c'è sta, fa tutto, no? E infatti, c'hai ragione, c'hai ragione. Salvatore, per favore, ti devo di tutto. Ah, che cosa? No, Serena. Buon pomeriggio, ieri sera purtroppo io ho abbandonato il mio bimbo, è caduto, ed abbiamo passato un'ottima. Oh, mannaggia, 5 ore di attesa. Mamma mia, assurdo veramente, hai ragione, è assurdo. Per tre punticini tutta la notte a pronto soccorso. Maira ne sa qualcosa. Pure Maira ne sa qualcosa che è capitato anche a lei. La stessa cosa, eh? Sì, una situazione simile pure a Mairetta nostra col suo bimbo, l'anno scorso, eh? L'anno scorso, erano che... È rimasto il segno, il sopracciglio. Dice che ha inviato adesso il messaggio, sembra che... Ma io non ricevo nulla, quindi non so a che numero, eh, io non so a che numero l'abbiamo andato, perché non so nulla. Vabbè, ora siamo in diretta, con calma guarderemo meglio. Allora, va bene, ragazze. Allora, io direi di cominciare intanto a dare un po' di info, perché se no si fa tardi. Sapete che la diretta del giovedì è bella, intensa, ricca. Poi oggi non solo abbiamo tanto abbigliamento in saldo, come sempre, come tutti i giovedì, ma tra l'altro oggi abbiamo anche tante borse. Abbiamo...quante sono più o meno 50-60 borse in saldo? Se riusciamo facciamo vedere anche le collane in saldo, giusto? Sono numerate? No. No, grazie. Prego. Vabbè, però si vede, dai. Le borse, vestiti, capotti, capotti. Io mi vendo pure a voi, se non vi smettete tutte e due. Vabbè, allora, smettila. Chi smettila? Abbiamo anche tre ventilatori, ragazzi. Smettila. Allora. E anche il metro nuovo, che questo lo vendo volentieri, che non mi garba proprio. Ciao, Manu. Ecco, guarda, è arrivata pure la carognetta mia. Guarda, è arrivata la carognetta mia. Allora, va bene, ragazzi, dai, bando agli scherzi. Partiamo con le informazioni, così ci dedichiamo alla diretta, insomma, che dicevo, bella lunga oggi. Allora, ragazzi, ovviamente parlo per chi non ci segue sempre o per chi magari, per puro caso, ci guarda oggi per la prima volta. Intanto diciamo che io sono Silvia e noi siamo tutto il gruppo di morbidi passi. Noi ci occupiamo di abbigliamento donna, sia small, sia curvi, e anche accessori vari, quindi borse, collane, portafogli e tanto altro. Per quanto riguarda le taglie, siamo specializzati soprattutto nelle taglie over, curvi, ovvero a partire dalla 46 in su. Diciamo, è il nostro cavallo di battaglia. Facciamo spedizione ovunque, sia in Italia sia all'estero. Fermo restando che per chi è di zona ci può venire a trovare anche direttamente qui in negozio. Trovate orari, indirizzi, eccetera, tutto sui vari canali social. Vi ricordo che ci trovate ad Aprilia, in provincia di Latina, siamo proprio vicini a Roma. Ovviamente se siete lontani potete acquistare online e lo potete fare o tramite le foto che noi pubblichiamo settimanalmente su tutti i social, quindi a partire da Facebook, Instagram, TikTok. Voi prendete le foto di ciò che vi interessa, ce le inviate al nostro numero WhatsApp che trovate alle mie spalle dappertutto. Ci inviate le foto di quello che volete acquistare. Noi possiamo prendere il vostro ordine direttamente da lì, quindi facile, veloce e si può fare in qualsiasi momento. Oppure seguite le nostre live e potete ordinare in live scrivendo proprio in diretta. Ne facciamo sempre tre a settimana, martedì e giovedì, nel pomeriggio alle 16.30 come oggi. E invece il mercoledì sera alle 20.30 subito dopo cena. L'unica cosa che chiediamo è che per ordinare in diretta, se non siete già nostri clienti, dovete registrarvi. Ma la registrazione è velocissima, significa perdere un minuto di tempo, ovvero inviarci un messaggino al nostro numero WhatsApp scrivendo il vostro nome e cognome reale e anche quello eventualmente dei social, se magari è un nome di fantasia, inventato, un alias, eccetera. Fatto ciò potete acquistare in diretta. Per quanto riguarda le spese di spedizione, allora considerate che a già partire da un minimo di ordini di 50 euro in su, ovviamente, la spedizione è completamente gratuita. Al di sotto, invece, di questo importo chiediamo 6 euro con ricarica post pay, boniti o per valo, oppure 8 euro in contanti al corriere, in contrassegno. Qualora ne doveste aver bisogno, vi diamo anche la possibilità di fare i cambi, ovviamente il costo del cambio a vostro carico, attenzione però perché non cambiamo la merce in saldo e non effettuiamo rimborsi. Ultima cosa e concludo, allora noi abbiamo impostato il nostro lavoro in questa maniera, ovvero da lunedì fino al venerdì sabato prendiamo tutti gli ordini sia tramite WhatsApp sia tramite le live. Quando arriviamo al venerdì e al sabato, per l'appunto che sono gli ultimi due giorni lavorativi della settimana, vi contatteremo su WhatsApp, vi invieremo foto e prezzi di tutto quello che voi avete accumulato e ordinato durante la settimana e a quel punto ci mettiamo d'accordo per la chiusura e la partenza del vostro pacco. Quindi voi avete questa possibilità di comunque poter accumulare merce durante tutta la settimana. Detto ciò, preciso due cose importanti, la prima è che se ci ripensate su un articolo che avete prenotato in settimana, volete cambiarlo, sostituirlo, modificarlo, insomma quello che volete fare, ditecelo il giorno stesso che lo avete prenotato, mi raccomando non aspettate fine settimana. E secondo, altra cosa importante, dal momento della chiusura del pacco a fine settimana, entro massimo uno, a dir tanto due giorni, dovete effettuare il pagamento per darci modo di far partire il vostro pacco. Altrimenti fanno giacenza in magazzino e noi non rientriamo mai e ci riempiamo di pacchi insoluti. Insomma, quindi cercate di essere precisi, venirci incontro perché è importante anche questo. Vendili a chili che a me ti non conviene. Sonia, però tu pure sei cattiva, ma quelle due povere nanette così le tratti, dai, non è carino, insomma. Ma i rettessi e tiziana sono diversamente alte, non è che sono basse, capito? È un po' così. Va bene, allora ragazze, io il mio sermone l'ho finito, le info le ho date. A questo punto, ragazze, io direi di partire con la diretta vera e propria. Parto con l'abbigliamento. Quindi, parto subito con una casacca, come vedete, a costine, lucida, tutta brillantinata. Ok? Fate conto che è un cotone pesante, non lana, cotone pesante. Oggi la trovate in soltanto quattro colori, ovvero nera, grigia, beige e rosa. Quattro colori la casacca, mentre il pantalone che si abbina solo tre pezzi. Allora, da 19,90 questa casacchina mi scende a 14,90. Stesso discorso vale anche per il pantalone sempre brillantinato a costine. Nero purtroppo manca, però c'è negli altri tre colori. Anche qui, pantalone brillantinato da 19,90 mi scende a 14,90. Allora, intanto vi do le misure della casacca brillantinata. Allora, 130-180 seno, perché cede molto, fianchi da 140 a oltre 180, lunghezza 80 cm, quindi vestibilità ottima, curvi, vera. Disponibile nera, grigia, questo beige e l'ultimo colore, questo rosa molto molto carino. Vedete l'effetto un po' brillantinato? Ok? Questo per quanto riguarda la casacca. Per quanto riguarda invece il pantalone, che il modello, come vedete, è bello largo a palazzo. Anche qui il prezzo mi scende da 19,90 a 14,90. Abbiamo solo tre colori, grigio, beige e rosa. Da 70 di girovita arriviamo quasi a 170. Fianchi partiamo da un 120 e andiamo anche oltre i 180 cm. La lunghezza di questo pantalone è di 105, ok? E vi faccio vedere anche qui i colori che, come avete notato, corrispondono perfettamente alle casacche. Anzi, ve le faccio vedere vicino. Così per chi magari vuole approfittare, risparmiare qualcosina e farsi un bel completo, qui lo può fare. Eccolo qui, Nausica la casacca nera, va benissimo. Vedete ragazzi, completo grigio, molto molto carino. Allora, intanto leviamo la casacca nera così non si vede e nessuno rischia di ordinarla. Poi, il completo con il beige, quindi 14,90 la casacca, 14,90 il pantalone. Questa è ottima, non dobbiamo rimediare questa stappella. E poi, completo rosa, stesso discorso. Ragazzi, il prezzo ovviamente non cambia. C'è sempre 14,90 la casacca brillantinata. Idem per quanto riguarda il pantalone. Ok? Allora, ciao ragazze, buon pomeriggio a tutte e ben ritrovate. Io sto andando piano pianino perché, insomma, lo so che adesso è il momento in cui si finisce di lavorare e piano piano vi collegate. Allora, intanto vi lascio questo qui e vado subito avanti con un'altra cosina. Allora, continuo, ciao a Elena, continuo con una gonna in lana, ne sono rimasti solo due pezzi, una con il marrone e una con il bordeaux. Allora ragazzi, qui il prezzo scende da 19,90 a ben 13,90, ne ho solo due pezzi. La vestibilità è anche fino alla 58,60. Tant'è vero che divita mi parte da un 100 di centimetri fino a 160. Fianchi mi parte da 120 fino a 180 abbondante, anche qualcosa in più. e la lunghezza che è fino alle caviglie è 90. Allora, colore bordeaux, colore marrone scuro, prezzo scontato 13,90 euro. Aspettate che io mi faccio anche un po' di 60,90 euro. Ecco qua. Allora, 13,90 euro. Che c'è di perché ti vedevo un po' girare testa, non arriva qualcosa? Non funziona? C'è qualcuno che ti sfastiglia? Sì? Chi è, Mairetta? È lei. Eh, lo so, quella sta a fianco. E ti sfastiglia. Aspettate ragazze che sono uscita un momento dalla diretta. Ah, e allora blocca. Ho la connessione. Deve venire Stefano, però. Eh, Steffi, vieni un attimo. Tiziana ha bisogno. Eh, ma lui non ti può aiutare, sì. Allora, che c'è? Perché le mani in testa? Allora, ragazze, quindi, maxigonna, bella, in lana, lunga, 13,90 euro. Ha due colori disponibili, marrone e bordone. Allora, marrone scuro la conna per Sabina Lamarca. Ok, va benissimo. E Emi Marti la bordone. Ok, perfetto. Finite le due conne. Benissimo. Allora. Allora, invece qui abbiamo... 13,90 euro. Non mi ricordo chi lo sai. Ultimi, ultimi, due, ultime due felpi. In cotone garzato, una grigia, una verde militare, super scontate, a soli 13,90 euro. Ragazze, ultimi due pezzi. 120, 150 seno, 140, 160 fianchi, abbondanti direi, lunghezza 72, 13,90, una con il grigio e una con il verde militare. Per quanto riguarda il pantalone abbinabile, abbiamo sempre il grigio e il verde militare che si possono abbinare. E poi abbiamo anche il nero. Il prezzo in sconto, io no, è sempre di 13,90 euro, parliamo sempre di un cotone garzato, super elasticizzato. Le misure sono 90, 140 di vita, 120 fino a oltre 160 fianchi e una lunghezza di 96, nero, grigio e verde militare. Quindi, 13,90 euro la felpa, 13,90 euro il pantalone che noi chiamiamo sottotuta, che si abbina perfettamente. Cotone garzato, elastico, super comodo. Ragazzi, è una tuta semplice anche per, veramente, una cosina classica, comoda per tutti i giorni. Allora, io intanto vado avanti. Allora, qui invece proseguiamo. Aspetta che li voglio prendere insieme. Allora, qua invece, ragazze, vi faccio vedere un qualcosa di un pochino più invernale. Perché andiamo su un tessuto cinigliato, ok? Partiamo con una casacca, dallo scollo, vedete, a V, semplicissima, molto molto carina, con questa leggera pence davanti. Il prezzo in sconto di questa casacca è di soli 13,90 euro. Ripeto, tessuto ciniglia, infatti vedete, bella lucida, morbidosa. Le misure sono ottime, perché partiamo da un minimo di 120 e andiamo oltre i 160 di seno. Fianchi partiamo da un minimo di 150 e andiamo oltre i 170 e una lunghezza di 78. I colori disponibili sono abbastanza assortiti. Tant'è vero, abbiamo il blu scuro, abbiamo il ciclamino, l'ottanio, il grigio e gli ultimi due colori sono il nero e il verde gucci. Ok ragazze, questo per quanto riguarda la casacca in ciniglia, 13,90 euro in sconto. Allora, ciao Carla, casacca blu per Carla, tantola. Eccola per te Carla. Allora, poi dello stesso tessuto, quindi parliamo sempre di un pantalone. E frigente, c'è un mino, c'è un mino, c'è un mino, sì. Verde gucci per Silvia Mosconi, ok. Annalisa è appena andata via sopra di te la verde gucci. Se vuoi c'è ottanio, grigia o nera. Allora, poi, dicevo, abbiamo volendo anche il pantalone. Ma di quale ordine parla questa signora? No, non l'ho capito, ma non so. Allora, mia casacca ciniglia grigia. Chi è? Fatto Antonella Savoia. Sì, sì. Che c'è scritto lì? Annalisa, ti hanno fregato anche la grigia. Annalisa, mannaggia, sei un pochino più lenta di connessione rispetto agli altri. Ottanio e nera. Allora, adesso dicevo, invece, pantaloni sempre in ciniglia, modello palazzo, scontato. Eccolo, ce l'ho in mano, Carla. 12,90 euro. Aspettate se non... Sì, 12,90 euro il pantalone scontato. Il blu, eccolo per Carla. Chi è? C'è Carla Tarantola. 100-180 di vita. 140 fino a oltre 180 a fianchi, perché ovviamente è a palazzo. Lunghezza 105. Annalisa, per il pantalone nero non c'è? Annalisa, nero con pantalone. No, Annalisa, quello che vedevi scuro era blu. Se vuoi, nera la casacca, te la posso dare, ma il pantalone abbinato non c'è. Però con il nero puoi mettere tanti colori, puoi mettere il grigio, il verde, tutto. Allora, i colori del pantalone sono cacao, poi un po' più chiaro, ragazzi, anzi, facciamo così. Bece scuro e bece chiaro, così non ci impicciamo la testa. Poi abbiamo tre pezzi di grigio, stranissimo, come mai tre pezzi? Poi verde militare e verde gucci, ok? Questi sono i colori disponibili. Lo salva rossi e il pantalone grigio. Ok, grigio per lo salva rossi. Annalisa, per il lo mi dici se la casacca nera la vuoi lo stesso? E magari, che ne so, ci puoi abbinare il pantalone grigio, il pantalone verde. Scrivimi per favore così perlomeno so. Con pantalone gucci, prende la casacca nera col pantalone gucci. Col pantalone gucci, va benissimo, eccolo fatto. Perfetto, fatto Annalisa. Giusto? Sì. Sì, sì. Allora, quindi ragazze, sono rimasta con due pantaloni grigi. Un verde militare, un beige chiaro e un beige un pochino più scuro che tende al marroncino. Il prezzo di sconto è 12,90. E poi mi rimane casacca, ottaneo, eccola, con pantalone grigio per la carognetta mia. Sì, io invece di scrivo castrighella scrivo carogna. Non è la stessa cosa. Ma devi mettere carognetta perché capisco meglio, capito? Carognetta è un po' brutto. Sì, ma è sempre nel senso affettuoso, ci mancherebbe. Sì, però carognetta è più bella. E' carognetta, metto carognetta. Basta, ho deciso. Ma domandi, ma chi è? E' una nuova, come si chiama? Carognetta. Ok. Ma che c'è questo qua nero? In vetrina. In vetrina. Ah, vuoi? Sì, perché è per animarti. Va bene. Ok. Adesso, subito? Eh, come vuoi, ma se ce lo ricordiamo. Ma questa là è blu. Sì, quello nero ce l'ho di là perché ho fatto col marrone e scuro. Ok. Benissimo. Allora ragazzi, quindi grigio, verde militare, beige chiaro, beige un po' più scuro. Sono gli ultimi quattro pezzi. 12,90 euro, vi ricordo che è un modello a palazzo, in ciniglia, bello morbido, vestibilità, anche fino alla 58,60. Ok? Allora, intanto proseguo e vado con una casacchina, ragazzi, dalla manicuccia trasparente, molto molto carina, tessuto in raso. Il prezzo scontato, anche qui, è di soli 13,90 euro, 130, 150 seno, 140, 160 fianchi, lunghezza 75, 13,90 euro. Ciao Anna, nera, blu scura, nera del Sonia Dimitri, poi blu scura, bronzo, ottanio e ancora bianco e ciclamino. Madonna quanto è bello il bianco. A me piace ciclamino, come sempre. Allora, ragazze, 13,90 euro, carina, ottima vestibilità, il raso che vedete davanti è bello elasticità. Quindi è un guida a fastidio. Seren Alessi e bianco e ottanio. Bianco e ottanio per Serena, eccolo. Anna, oggi è la diretta delle, non mi fare queste domande, non lo so. Oggi è la diretta degli sconti, quindi non so quello che è stato preparato. Pantalone classico a palazzo, anche questo è classico a palazzo. Nausicaa, ciclamino, brava Nausicaa. Maria Elena, sanna, bronzo, eccola. Sanna? Maria Elena, sanna. Sì, mi ho visto quello che mi ha inviato, tranquilla. Poi dopo la diretta ti ordino quello che mi manca. Allora, l'ultimo blu scuro, ragazze, di questa casacca con la manicuccia trasparente. Allora, vediamo un po' se c'è qualcuno. Sì, sì, ma passa di qua. Certo, certo. Questi sono tre, sono vetrina, non tutta nuova. No, 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 la vetrina abbiamo fatto tutta nuova. Allora, ragazze, ultimi tre cappotti. Ragazze, questi sono meravigliosi. Allora, le misure sono 120-160 seno. Oltre 150 abbondanti, anche 160 fianchi. Lunghezza 74. Allora, il prezzo in sconto, questo cappotto da 60 euro, mi scende a 44,90. Ragazze, considerate che lo sconto non è poco, perché veramente già siamo bassi con il prezzo iniziale. Io ho solo tre pezzi. Il viola, il beige, che poi è bellissimo perché è un colore neutro, molto molto facile da abbinare. E questo splendido, perché è veramente bello, questo celeste. Guardate che spettacolo. Ragazze, da 60, ripeto, a 44,90. Considerate che fare sconti sui cappotti, dove la stagione praticamente ancora deve entrare, cioè è veramente strano, ok? Però noi facciamo quello che possiamo. Quindi viola, beige e celeste scende a 44,90. Ripeto, fino a 160 seno, anche oltre 150 fianchi, lunghezza 74. Io intanto ve li lascio lì e proseguo con un altro articolo. Tra un pochino, Laura. Cosa? Le borse. Ragazzi, invece qui abbiamo maxi felpa, con tanto di cerniera davanti, laccettini maculati, lavorazione sulle maniche. Ne ho solo tre pezzi, nera, marrone e panna. Il prezzo di sconto, ragazze, addirittura, ciao Katia, scende a soli 19,90. Ripeto, bianco, questo bianco panna, marrone e nera. 19,90, ben 10 euro di sconto. 140 fino a 180, sia di seno, sia di fianchi, lunghezza 75. Nera però il bianico. Ragazze, sono bellissime anche questo marrone scuro. Bello anche, delicato questo panna. Eh sì, ma ancora? Lina scalese panna. Ma chi è? No, io non ce l'ho qua. Lina scalese panna, abbiamo fatto. Cioè, questa signora io non riesco a riceverla su WhatsApp, per me non può predotare. Donatella Massaro nera, non c'è più nera, andando da lì, è rimasto solo marrone. Io non ce l'ho però come... Eh, io la vedo. Levala da qua, ma? Da dove? Da lì. Da qua devi levarla. Marrone per Anna Marigliano. Ragazze, vi ricordo che oggi è la giornata delle offerte, quindi, eh, prenotate solo se siete veramente sicure, ragazzi, ok? Allora, continuo, vado avanti con un'altra cosa molto molto carina. Adesso abbiamo una felpa, una casacca anzi, in punto Milano, quindi tessuto meraviglioso, con la lavorazione sotto, vedete, a velo, con stampe diverse. Infatti la numero uno sembra zebrata, la numero due con i fiori e la numero tre con un altro tipo di fiori, praticamente. Ah no, ma è uguale. No, è leggermente diversa. E di cosa, Donatella? No, anche Donatella, mica dovete chiedere scusa quando non potete. 44,90 Ivana, grazie Maddalena. Ragazze, questa maxi casacca da 29,90 a 19,90, 130, 160, seno, fianchi da 140, oltre 160, lunghezza 80, ok? Quale felpa? Quella che ho preso. Allora, Anna, ridammi la felpa. Ragazze, lo dico per l'ennesima volta, prima di prenotare gli articoli, dovete essere sicuri che le misure vanno bene. Certo, Ivana, mi dai la viola per Ivana Zanetti? Certo, fatto Ivana. Allora, Sara Pocaterra, la casacca numero tre, eccola qui. Allora, Anna, io le misure adesso non ce le ho, tu me le hai prenotate, io le ho buttate e ora non te le so dire. Ragazze, dovete prima sentire le misure, poi prenotare l'articolo, perché se no così come facciamo? Allora, mi rimane la casacca numero uno, che ne ho due pezzi, e poi la casacca numero due con i fiori. Ragazze, da 29,90, questo è un punto Milano, scende a 19,90. Cioè, ragazze, 10 euro di sconto su articoli nuovi. E stiamo parlando di ottimi tessuti, veramente. Mamma mia, guarda, una cosa proprio che mi... Allora... Ciao Rita, buon pomeriggio, ben trovata. Posso sapere la misura della manica a velo? Ah, la camicia di raso, la rosa Rosanna. Della manica a velo? Allora, è rimasta solo blu, il prezzo scontato era 13,90, 130, 150 seno, 140, 160 fianchi, lunghezza 75. Ah, no, il problema è che dovevi chiederle prima, io adesso ho buttato il foglietto, non so qual è, perché già ne abbiamo buttati tanti, e non so d'arte le misure. Io ti posso dire che la vestibilità è grande, è oltre 150 seno e fianchi. La rosa Rosanna la prende. Però la prossima volta, ascolta prima le misure, poi prenoti l'articolo, perché così sennò siamo in difficoltà. Io ti posso dire che è più grande di 150 sia seno che fianchi, perché guarda quanto è grande. Eh, ok. Allora, qui mi rimane la numero uno e la numero due. Poi vado avanti con un altro articolo. Allora, qui invece abbiamo due casacchine in vellutino a costine, bellissime, una rosso bordeaux, una con il grigio. Queste sono scontate a 14,90 euro, perché sono belle lavorate, molto carine. 140-170 seno, perché come vedete sono leggermente più abbondanti sul seno. fianchi 130-150, lunghezza 72, ripeto, colore bordeaux e grigia, molto molto carine. I miei gatti, tutti e due, va benissimo Sara, per te. Sabrina è andata, sono andate via tutte e due a Sara Pocaterra. Eh, me sa che ho messo quella marrone in vetrina, lo sai? Il gatto. Eh, me sa di sì. Ma non l'avate controllato prima? Eh no, me l'ho vista e non me l'ho ricordata. Per due? Per due, sì. Allora, poi continuo ragazze con, ciao Alicia, allora, casacca brillantinata. Eh, in bocca al lupo, Giorgè. In bocca al lupo davvero, Giorgè, non ti invidio, guarda. Allora, casacca 1 di prima, va benissimo. Eccola la numero 1. Perfetto. Allora. Eh, velo sotto, 19. Quella era 19,90, sì. Allora, invece qui abbiamo delle casacchine, molto molto carine, tutte brillantinate, hanno delle micro pagliette all'interno. Ne ho tre, blu, bordeaux e nera. Ce l'avevo, eh? E sono scontate a 12,90 euro. Allora, ragazzi, quella con i gattini, ce l'avevamo in vetrina, anche marrone scuro. Quanta era? 14,90 con i gatti. Zanitti. Zanitti, Ivana nera. Eccola per te, Ivana. Benissimo. Allora, questa con i brillantini c'è ancora, con il blu, con il bordeaux. Con i gattini, invece, maglia 3 per Stefania D'Ambrosio. Qual è la maglia 3? No, la 3 non c'è più Stefania D'Ambrosio. C'è la 1 e la 2. Scalise, mia, marrone, forse. Allora, lina Scalise, mia, marrone. Sabrina la vista, non scrivere mai, mia, perché poi se arrivano poco poco i messaggi in... Con i gatti, dice. No, è andata, mi dispiace. C'è lina sopra Sabrina. Sì, sì. Allora, questa è la 19,90 in Punto Milano, è rimasta la numero 1 e la numero 2. Mi è saltata addosso. Queste qui, invece, brillantinate, a 12,90, sono rimaste blu e bordeaux. Vi ricordo anche i cappotti con pelliccia, bellissimi, ragazze, scontati a 44,90. Di quella che ho in mano, questa con i brillantini, Lisa, 120-170 seno, sui fianchi può cedere anche qualcosa in più di 170, lunghezza 72-73 circa. Blu e bordeaux, 12,90. Mentre queste in Punto Milano, ah, la Punto Milano, c'è la numero 1 e la numero 2, costano 19,90 scontate, 130-160 seno, 140-160 fianchi, lunghezza 80. Cappotto, panno, panno, per Assunta Barresi, panna, immagino, vero, Assunta? È scritto panno, ma penso che intendevi questo. Dammi conferma, comunque, a prescindere. Lisa, fammi sapere se ne vuoi una. Comunque le misure sono comode, abbondanti e poi il Punto Milano, ormai lo sapete, è meraviglioso. Assunta, confermato. Ok, perfetto. Allora, ragazzi, proseguo con un'altra casacca cinigliata con finta camicia maculata. Ho tre pezzi soltanto, bordeaux, ottanio e questo grigio, molto carino e simpatico il modello. Il prezzo in sconto mi scende a 14,90 euro. Le misure sono da 120 a 160 di sieno. Sui fianchi, invece, ci fermiamo a 150 e la lunghezza è 77. Allora, colore bordeaux, grigia e ottanio per Sarapocaterra. Allora, grigia e ottanio, eccola qua. Mi rimane solo la bordeaux. 14,90 euro, molto, molto carino. Vediamo un attimino. Ciao Claudia, buonasera a te. Allora, grigia e ottanio, la casacca con la finta camicia maculata. Scende al prezzo di 14,90 euro, ultimo colore, bordeaux. Intanto vado a prendere altri cosiddetti. Allora, facciamo un giubbottino. Allora, qui invece abbiamo un giacchetto, un giubbottino bello pesante, con stampe molto carine, molto particolari. Questo giubbottino addirittura, addirittura, mi scende alla bellezza di 19,90. Ne ho solo tre pezzi. 140, 160, seno e fianchi. Lunghezza 82. Disponibile nella fantasia numero uno, che è questa. Un po' animaliere. La numero due, con il gatto, molto molto carine. Chiaramente questi sono caldi, sono proprio giubbottini belli pesanti. E poi, la numero tre. Eccole qui. Ragazzi, approfittate. Ne ho solo tre pezzi. E a un prezzo, non scontato di più, di soli 19,90. Cioè, veramente regalate. Stiamo parlando di giacchetti. Ciao, Eleonora, buonasera. Allora, rappresentanti di classe. Allora, quindi, vi faccio rivedere la numero uno, animaliere. La numero due. Gattie. 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 E anche questa è Gattie. E la numero tre. Ragazze, 19,90. Approfittate, non sono felte, sono proprio giacchetti. Allora, e intanto vado avanti. Allora, qui invece mi ritrovo con quattro, quattro camice, molto molto carine, in tessuto raso. Eccole qui. Allora, queste qui, da 29,90, ragazze, 29,90, scendono a 19,90. D'apprezzaccio. Ne ho solo quattro colori. 134 di seno. 146 sui fianchi. Lunghezza 79. Disponibile con il blu. Con il nero. Con il verde militare. Naturalmente io vi dico il colore che più prevale nella fantasia. E questo, color binaccia. Ecco l'effetto, per esempio, sciolta senza il nodo. A me piace anche così. Semplice. Senza avere il nodino davanti. Che magari, che so, rischia di essere, che ne so, sfiziosa sì, ma magari anche più corta. Vedete la differenza? Allungandola diventa una bellissima camicia, se vogliamo, dal taglio classico. Eh, Tamara, se mi scrivi in diretta, onestamente non ti so aiutare. Se mi avessi scritto in privato, controllavo sul sito. Ok? Inutile che me lo scrivi qui in diretta. Sarà per arrivare, immagino, ovviamente. Però magari adesso non saprei come aiutarti. Allora, ragazzi, quindi, quattro camicie da 29,90 scendono a 19,90. Parliamo di raso elasticizzato. Lina Stalista e il giubbotto numero 3. Giubbotto numero 3. Eccolo qua per te, Lina. Giubbotto. Anche questo 19,90. Il prezzo della camicia, Maria, è in sconto da 29,90 a 19,90. Ok? I prezzi, ragazzi, li potete tutti verificare sui nostri vari canali social. Ne ho quattro colori, con il blu, con il nero, con il verde. E questo prugna, prugna-bordon, insomma, dalle varie tonalità. Da 30 a 19,90. 134 di seno, 146 di fianchi, lunghezza 79. Allora, andiamo avanti. Allora, invece qui abbiamo... I messaggi arrivano bene? Sì? Perché ho l'impressione come se sia tutto molto in ritardo. Guarda. Sarà una mia impressione. Allora, ragazzi, qui invece abbiamo due felpe, sempre a costine, molto molto carine, con cappuccio e finiture, come vedete, maculate, in tessuto velluto a costine. Il prezzo in sconto di questa casacca, di questa felpa, ne ho solo due colori, in verde e in grigio. Mi scende a 19,90. Solo due colori. Le misure sono da 130 a 170 di seno, da 140 a 180 sui fianchi e una lunghezza di 75. Due colori disponibili, il grigio e il verde Gucci. Questi sono molto molto carini. Ultimi due pezzi, in sconto 19,90. E poi, anche due pantaloni dello stesso tessuto, sempre in velluto a costine. Ciao, Anna. Sempre in velluto a costine. Il prezzo, grigia per Bianca Maria Giordano. Ok. Eccolo per te, Bianca Maria. Mi rimane la verde della felpa. Allora, dicevo, per quanto riguarda invece il pantalone, è scontato a 14,90 euro. Ce l'ho disponibile in verde militare o in rosso porto, che è bellissimo. Le misure sono da 80 a 150 di vita, 130 a 170 fianchi, lunghezza 100. Ripeto, bordeaux e verde militare. Allora, ragazze, ditemi se vogliamo spezzare un pochino la routine facendo le borze. Avete voglia di vedere qualche borza in saldo? Scrivete se sì o no. Fatemi capire se siete interessati e se preferite continuare con l'abbigliamento. Dai, vi lascio a voi la scelta se continuare con l'abbigliamento oppure spezzare un pochino con le borze. Vediamo un po'. Scrivete, ragazze. Lina dice sì. Quindi sì per borze. Dai, ragazze, datevi la vostra opinione. Fatemi capire. Se avete interesse, parto a farvi vedere qualche borza. Poi alterniamo un pochino. Dicono già di sì. Dai, dicono già di sì. Sì. pure tu che avete le borze. Pure a te ti servono le borze, ti? Sì. Sì, ok. Allora, e partiamo con il primo modello, ragazze. Serena, tu ti devi sempre distinguere. Cosa vuoi? Smettila, Serena. Che sto facendo? L'unica che ha scritto abbigliamento. Allora, ragazze, partiamo con il primo modello. Ne ho solo tre pezzi. È una borza ovviamente grande, nera, jeans, e nera jeans. Dai, cinque minuti e poi partiamo. andiamo un po'. E bordeaux, ragazze, questa è una borza con tracolla all'interno lunga ed è scontata a soli 11,90 euro. Ne ho tre pezzi, vedete, bella, grande, capiente, nera, jeans e rossa. Allora, le abbiamo anche numerate. La borza numero tre è bordeaux, rossa bordeaux. La numero due è jeans, e la uno è quella con il nero. Ok? E' dalla terza. Eh, vabbè, perché ce l'avevo in ordine così. Allora, nera per l'ina scalise. Carla non ce l'hai fatta perché l'ha presa già l'ina nera. 11,90 euro. Se vuoi c'è jeans oppure rosso bordeaux. Abbiamo detto 11,90 euro, giusto? Sì. Allora, la jeans è la numero due, la bordeaux è la numero tre. Allora. Ecco. Sarei io altrimenti. Ma io, tranquilla, ho detto, per risentire scelta, mi dico, no, dai, Serena. C'ha ragione, vorella. Allora. Se vede che c'è l'interrogazione, la bordeaux. Continuiamo invece con una bella borsa. Però ragazze, qua andiamo sulla marca Yu Yang di Enrico Coveri. Disponibile viola, guardate che bello, in tessuto tecnico impermeabile, e rosa. La viola è la numero quattro, la rosa anticola numero cinque. Queste, per esempio, sono in sconto da 24,90 a soli 15,90 euro. Ragazzi, guardate che belli questi due colori. Questo è stupendo, ma pure rosa, molto bello. Enrico Coveri, 15,90 euro. Versione viola e versione rosa antico. La rosa è la numero cinque, la viola è la numero quattro. Ok? E le affoggio qui, poi dopo le sposto un momentino, così riuscite a vedere quello che rimane e quello che va via. Tanto poi, viola per la rosa rosanna. Ok? 15,90 di Enrico Coveri. Allora, rimane di Enrico Coveri quella rosa, eh ragazzi? Poi, andiamo invece con un modello più squadrato. Allora, qui siamo a un prezzo scontato di 14,90 euro. tutte, Antonella, tutte. Hanno tutte la tracolla all'interno. Ragazzi, è difficile trovare oggi giorno una borsa che non abbia la tracolla dentro. Tutte, anche queste qui, eh, che sto mostrando ora. Allora, qui ragazze, da 20 euro scendiamo a 14,90 euro. Borza numero 6, rosa, borza numero 7, nera, e la numero 8, in blu scura. Come vedete, tasca centrale con cerniera, questa cosina fuori, questa fibietta molto carina, scontate a 14,90 euro. quindi blu nera e rosa antico. Molto belle, comode e come dicevamo, sempre con tracolla all'interno. Tutto bene, Roberta? Spero anche tu, insomma. Benvenuta, buon pomeriggio. Allora, vado a far vedere qualche altra cosina. Allora, andiamo con un'altra borza molto, molto grande, direi, anche qua. Guardate che bellina, ragazze. Bella, abbondante, comoda, con questa cosina laterale. Prezzo scontato soltanto 13,90 euro. Questa è un po' morbidosa, con tasca centrale e cerniera dietro. 13,90 è disponibile nera, che è la numero 9. Sì, 9 è la numero, è la nera. 10 è la blu scura e poi 11 è la color cuoio. Guardate che carina, ragazze. Soltanto, abbiamo detto, 13,90. Vara venuto il dubbio. 13,90 color cuoio numero 11, la blu numero 10 e poi la nera che è la numero 9. La 11. La 11, che sarebbe la cuoio per Antonella Coluccia. Fatto Antonella. E le appoggio momentaneamente qui. Ok. Poi, continuo con un altro modello squadrato, tortora e rosso bordeaux. Queste sono scontate a 11,90 euro. Solo due colori. la tortora è la numero 12. Che è zainetti? Zainetti. Ah, eh, sì, Lina, qualcosa ho. Ragazzi, non ho tantissime borze, eh, però qualcosina adesso vi faccio vedere. e poi la numero 13 che è bordeaux. Quindi, 13 bordeaux e 12 tortora. Zainetti ti posso far vedere, per esempio, Anna Mariellena borsa blu. Eh, quale? Ah. Mariellena, questa qua grande, la numero 10? Questa grande, dici se sì o no? Non è questa, perché è l'ultima che abbiamo fatto vedere. Allora, come zaini ho questo carinissimo brillantinato, tutto con bello sbrilluccicoso, prezzo scontato 14,90 euro, anche bello capiente ed è nero. Vedi, Lina, se ti può piacere, se ti può interessare. Poi, altrimenti, come zainetto, per esempio, ho anche questi molto molto belli, perché sono in tessuto tecnico, ma non avrino le messagne. Calise lo vuole, lo zainetto. Ok, va benissimo. Mariellena non ha confermato se era quella la borsa? Eh, quattrocento. Mariellena Sanna, mi confermi che la borsa blu era questa qua? La numero 10, per favore? Sennò non so se te la devo dare o no. Poi c'è Paoletta Trincone, eccola qua, la borsa nera grande, eccola, eccola Paola per te. 19,90 euro. Sì, la numero 10, perfetto. Va benissimo, Marielle, non ti preoccupare. Per quanto riguarda zainetti, sempre scontati a 14,90 euro, ragazze, troviamo anche in tessuto tecnico, quindi anche impermeabili, molto molto carini. Poi questi hanno anche una tracollina dove voi potete mettere lo zainetto a tracolla piuttosto che solo dietro le spalle. Ce l'ho anche io fatto in questa maniera ed è molto utile. Allora, ce l'ho nero che è il numero 23, poi il marrone che è il numero 24, il Bordeaux che è il numero 25 e l'ultimo che è un Tortora che è un Tortora Champagne che è il numero 26. Ragazzi, anche questo è in sconto a 14,90 euro. Ma guardate, sono nuovissimi, addirittura ancora incartati. Guardate, c'è. Questo per farvi capire che stiamo facendo i saldi su articoli praticamente nuovi. Di più. Di più. Allora, questi sono in tessuto tecnico impermeabili, 23 per Olbia. Il 23 che cos'era? Quello Bordeaux? No. Vediamo un po'. Il nero, capito. Sì. Eccolo qua, il nero che era il numero 23 per Olbia. Benissimo. Sono anche molto molto carini anche i colorati però, eh. Poi, vi faccio vedere questo modello molto particolare che io adoro perché sembra un po' una via di mezzo tra una borza e uno zaino. Questo lo potete chiudere, potete allungarle, potete fare ciò che volete. Nera, blu e viola. Il prezzo in sconto è sempre 14,90 euro in ecopelli ovviamente. Allora, la viola è la 29, la blu scura è la 28 e la nera ovviamente dovrebbe essere la 27. Mi dici il prezzo della borza nera dietro vicino alle sciarpe? Quella laggiù? Adesso te lo dico. Soliteo lo zaino nero, eccolo. va benissimo. Ragazzi, dello zaino qui mi rimane il viola e il blu scuro. Allora, questa nera è la borza 27 per Solitea? Sì, sì, è quello che ha preso. Ah, ok. Allora, la borza nera qui dietro costa 13,90 ed è la numero 48. Ovviamente anche questo, come dico sempre, c'è la tragolla lunga anche qua. Borza 48 nera una sola, un pezzo solo, 13,90 euro. Chi è che l'aveva vista? Ah, Maria Ungora. Maria, dici se la vuoi prima che magari la chieda qualcun altro. Intanto io l'ho appoggiata lì. Tortora zainetto per scalise. Ah, dice quella appesa Ungaro. Ah, questa qua sopra? Eh, allora un attimo, tortora. Allora, Lina, mi confermi che è questo qui? Il numero 26, Lina Scalise? Infatti che Totto è l'unico che c'è, quindi non ci possiamo sbagliare. Allora, questa qui invece è una tracolla nera o grigia, il prezzo scontato è 9,90 euro. Due pezzi. Tracolla nera 83 come numero, la grigia è la 82, 9,90 euro. Solo due pezzi. Allora, vediamo un attimo. Maria Ungaro dice nera. Allora, grigia, giusidanna. Perfetto, allora sono andate via tutte e due perché Maria la prende nera. 82 per me, dice Cesarina, ma penso che erano quelle che sono andate via. Sì, giusidanna e grigia. Cesarina, tu non ce l'hai fatta. Mi dispiace. 9,90 abbiamo detto, vero ragazze? Allora, vi faccio vedere qualche altra cosina. Ah, per esempio, molto belle ragazze. Borse, stile piumina, solo nera, scontata, a 15,90 euro. Ragazze, questa è moda, una cosa particolare, molto molto carina. Qui abbiamo le righe dritte e qui invece ce l'abbiamo, vedete, a rombi. Allora, quella a rombi è la 38, quella a righe è la 37. Il prezzo in sconto è 15,90 euro e sono belle grandi. Quale preferisci delle due, Bianca Maria o indifferente? La 38 per Elisa Frigerio e gli diamo la 37 allora a Bianca Maria tanto sono praticamente quasi uguale. Fatto, fatto ragazze. 37, sì, giusto. Allora, poi volevo farvi vedere, volevo, abbiamo fatto giusto? Perfetto. Non mi ricordo. Allora, ragazze, poi ho altre tracolline sempre molto, molto simpatiche, sempre a 9,90 euro, ovviamente queste le potete allungare e metterle a tracolla per traverso, molto utili, doppia cerniera davanti e più cerniera centrale. 9,90 euro. Allora, disponibile bordeaux, che hanno queste non sono numerate, vero? Allora, scrivete tracolla bordeaux, tracolla marrone, poi, color, che ne so, cuoio, arancio, terra di siena, terra di siena non mi veniva più quell'altra. Poi, questo che è? Ah, argento, argento piombo, vabbè, e nera, l'ultima, ok? Marrone per Cesarina, perfetto. Cesarina, prende la marrone, benissimo. grigio per Rosalba Rossi, eccola. Ok, mi rimane la nera, questa sorta di cuoio mattone, e la bordeaux, tre pezzi. Che fatto, Roma? Rosalba Rossi, Rosalba. Ah, è vero? Cesarina anche nera, dice, fatto. Allora, ultimi due pezzi, color arancio, mattone, oppure bordeaux. Ultime due. Poi ho, al prezzo, di 11,90 euro, questa tracollina, carinissima, con pattina davanti, tasca con cerniera, e poi tasca anche centrale dietro, disponibile viola e rosa antico. Ok, viola e rosa antico, aspetta che serve. Ah, ok, un attimo solo che mando un link, eccolo qua, a posto. Rosa per Claudia Tomizio. Ok, abbiamo detto 11,90. Mi rimane la viola, una colla viola. So carino queste però, eh. Perfetto. Ok, Claudio ha preso la rosa, benissimo. Ok. Andiamo con un altro modellino, una bordata qua, molto molto carina. Allora, qua dovete proprio approfittare, perché adesso è il momento che ci sono una marea di articoli di abbigliamento, tutti brillantinati in questa maniera. Quindi qua così, potete abbinare tranquillamente. Allora, ne ho solo tre, nera, grigia, e beige. Il prezzo di sconto è di 14,90 euro. Come vedete, è bella capiente, dietro è semplice, con cernierina. Tragollina all'interno lunga, la beige, eccola qui, è la numero 32. Poi, la grigia, è la numero 33. E l'ultima, la nera, che è la 34. Guardate che carine che sono. Queste proprio è moda, con tutte queste cose brillantinate che abbiamo in questo periodo, veramente, le abbinate con grandissima facilità. Allora, io intanto le appoggio qui. Vediamo se c'è qualcuno, interessato. Allora, poi qui ho una borsa blu di Enrico Coveri, la numero 49, è sola soletta, bella capiente, prezzo in sconto, soltanto 13,90 euro, blu scura, linea Enrico Coveri, è la numero 49. Poi, marrone scuro, anche questa è l'ultima, la numero 47, ok? 13,90, anche questa. Vi voglio vedere quelle vicine. Ah, ok. Queste però, sono Nessi e Maria Antonietta, blu. Ok, questa è la 13,90 di Enrico Coveri, eccola Maria Antonietta. Ragazzi, se potete però, ditemi i numeri, così magari facciamo anche prima. Allora, Cesarina, questi sono tracolle dove, vedete, hanno varie cerniere, quindi è una tracollina utilizzabile come portafoglio, come portacellulare e poi come tracolla vera e propria. In sconto sono a 9,90 euro, è disponibile grigia, nera, guardate quante cerniere, quante tasche ha, poi in rosa e l'ultima in verde Gucci. 9,90 euro, queste qui. adesso le fa vedere tutte le borse. Cosa? Le fa vedere le borse piccole. La posso avere grigia per favore, Monica Santinonio. Grigia, questa piccolina, dice, ok, ok, eccola qua. poi Maria Ungaro dice nera, parliamo sempre di questa tracollina piccina da 9,90 euro. Ok, eccola qua, aspettate che arrivo, eccola qua per Maria Ungaro nera, fatto, ok, ragazzi, invece qui ho una, questa è grigia, vero? sì, grigia, l'ultimo pezzo rimasto, 9,90 euro. Tracollina grigia, ovviamente questa è accorciata ma si può allungare, grigia, lucida, 9,90 euro. Grigia ultima per la rosa Rosanna, perfetto, eccola per te la Rosanna. poi ho altri due pezzi unici, gialla, porta pochettina, molto carina, giallo ocra, ok, prezzo scontato, 8,90 euro, carinissima, sempre con tracolla all'interno e quindi è sempre una pochette tracollina. E poi viola, anche questa molto carina, prezzo scontato, 50% di sconto, 9,90 euro. Sempre anche questa con tracolla lunga all'interno, quindi viola e gialla. Gialla 8,90 euro, viola invece 9,90 euro. Ok, vediamo un attimo. Allora, lì già abbiamo fatto, io mi sposto un attimino queste, vedendo qui dietro, posso vedere la nera vicina alla bozza color cuorio. Ah, quella lì giù, sì. Allora, un attimino, eccoci, allora, questa qui è la linea del ciarro. Ragazzi, questa è la linea del ciarro, è disponibile in questo marroncino, in questo bordeaux e in nero. Allora, quindi, il prezzo in sconto di questa di questa borsa è di 14,90 euro. Traficante viola. Traficante viola, questa piccolina da 9,90, giusto? Sì, sì. Oriana, confermaci che è questa da 9,90. Allora, dicevo, quindi, linea borsa del ciarro, nera, rosso bordeaux e questo, diciamo, biscotto quasi marroncino. Ok? la 46 è la biscotto, la bordeaux è 45 e nera la 44. Nera per Natascha, parretti, ok? Mi rimane la bordeaux e biscotto, ragazzi. Ripeto, del ciarro, linea, quindi, di marca, scontata a 14,90. Allora, vediamo un po', se c'è altro, faccio vedere queste due qui. Allora, ragazzi, queste sono bellissime, effetto un po' sfumate, vintage, addirittura queste da 29,90 sono scontate a 19,90. Guardate che meraviglia, ragazzi. Questa è sui toni del grigio e questa invece sui toni del jeansato. ovviamente è sempre un'ecopelle. Per le piccoline quella che è rossa c'è nera. Questa qui? Sì, questa c'è Cesarina. Berlucchi grigia, quindi questa qui da 19,90. Sì, Cesarina, sempre 9,90. Te la do, eccola, eh. Ok, Cesarina? Allora, Cesarina dice che va bene, a posto. Eh, non vi vedo, eh, non lo so. Allora. Ok. Piccoline, carine, eh. Mi piace questo. Ok, ci siamo, c'è qualche altro messaggino? Allora, a me rimane di questa qui da scontata a 19,90 l'effetto jeans, e la poggio qui. Adesso invece vi faccio vedere un bauletto molto, molto carino, a me piace tantissimo, ragazze. a soli 13 euro, eh, 13 euro. Allora, dicevo, modello a bauletto, molto carina, sempre con tracolla all'interno, Bordeaux, numero 27, 13 euro e 90. Poi, questo è nera, vero? Nera, numero, come 27? Oddio, scusate ragazzi, ho letto male. Numero 39, Bordeaux, numero 40, nera, bauletto Bordeaux per Manuela Luggero. Ciao Manu. Quindi, nero, numero 40, e poi, rosa, antico, bellissima, 41. Guardate che meraviglia, ragazze, 13 euro e 90. Bauletto rosa e bauletto nero. Allora, io a questo punto vorrei fare un pochino di abbigliamento e poi finiamo con le ultime borse pronti. Ok. Che è successo? perché non mi scostavo. Allora, ragazze, ritorniamo sulla biglia mito, almeno alterniamo un pochettino, insomma. Ora lo zainetto rosso, grazie, lo zainetto rosso, ah, ok, questo, giusto Sabina, parliamo di questo in tessuto tecnico, vero? Eccolo qua per te. Ok, perfetto. Allora, ragazzi, come dicevamo prima, ci eravamo soffermate ha la felpa, bellissima, 19,90 in questo color verde ottani o petrolio, poi, pantaloni sempre in velluto a costine, bordeaux e verde militare al prezzo scontato di 14,90 euro. per favore mi ridai misure delle giacche col gattino. Ah, eh, sì, col gattino intendi queste scontate a 19,90, giusto? Allora, da 140 a 160 sia seno sia fianchi, lunghezza 82, mi è rimasta la fantasia numero 1 e la fantasia numero 2 col gattino. Fammi sapere se la vuoi una, Antonella. chi è qui? E chi è? La marca. Ok. Amica. Oh, ha precisina questa, eh? No, domani non ne troviamo. Allora, poi, continuiamo. Antonella ha scritto sì, ma si riferisce al fatto che ho azzeccato modello, non che vuole quello con il gatto. giusto? Ok. Antonella, se la vuoi me lo devi dire, eh? Allora, intanto vado con un giacchettone, un bel giubbottino che è misto tra piumino e tessuto teddy. Molto bello, con cappuccio. Sono gli ultimi due pezzi, tre pezzi, scusate, color panna. guardate che bello questo ciclamino magenta, bellissimo, e l'ultimo in bordeaux. Guardate che spettacolo. Ragazzi, questi sono prezzati a 40 euro, 40 euro, io ve li lascio a 24,90. Praticamente ve li regalo. Ok? Regalati. Ciao Pina. Allora, panna, ciclamino, rosso bordeaux, 140 fino a 150 di sieno, bianchi, 150 fino a 166, lunghezza, davanti, davanti 80, perché vedete è leggermente più corto, 88, scusate, no 80, 88, dietro, 105. guardate che spettacolo. Emi, Marti, Magenta, eccolo qua, fatto Emi. Allora, panna e, guardate che belle, ragazzi, dietro e la manica sono Teddy, Oldia, panna, mi rimane l'ultimo, Bordeaux. Guardate che spettacolo. Ragazzi, ma qua parliamo di soli 24,90 euro, cioè un giubbotto piumino barra Teddy, cioè, più di così, Cristel è rimasto solo Bordeaux. Solo Bordeaux, Cristel, l'ultimo, l'ultimo rimasto, ciao Cristel. Poi, vi mostro, Berlucchi, Bordeaux, Bordeaux, no, Giordano, Bianca Maria, Bordeaux. Bianca Maria, Giordano, Bordeaux. Scusaci, Barbara, però c'è, vediamo prima, Bianca Maria. ok, allora, ragazzi, invece adesso, sono, qui a farvi vedere, tre mantelle, in lana, pesante, favolose, allora, qui il prezzo, da, 36,90 euro, mi scende, a 22,90 euro, anche questo prezzo, stracciato, lana pesante, siamo, da 140, a 180, se ne fianchi, lunghezza, 95, è disponibile, la fantasia, numero 3, ciao Paola, numero 3, che è questa, guardate, guardate che meraviglia, anche la numero 4, cioè ragazzi, 22,90 euro, parliamo di mantelle, in lana pesante, e poi, la numero 5, bellissime, solo tre pezzi, la 4 per Crystal, eccola per te Crystal, la numero 4, ragazze, prendetele, perché sono molto carde, belle, magari anche per, che ne so, per farvi un esempio, per stare in ufficio, per una cosa, anche da usare come cardigan, oltre che come, anche come giacchetto, insomma, perché ripeto, sono in lana pesante, bella doppia, ti è rimasto qualche jeans curvy, Giorgia, non ho idea, no, oggi è jeans curvy, oggi no, 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 Giorgia, jeans in questo periodo, già ce ne stanno molto pochi, figuriamoci in saldo, è molto difficile, allora, Francesca Capri, la numero 5, eccola Francesca per te, ok, ne rimane solo una, che è la numero 3, molto bella anche questa, ragazze, toni caldi, bello, oltre che calda di lana, anche i toni, sono caldi, allora, poi, andiamo con, ne è rimasta solo una Elisa, Betta, quella che vedi nel carrello, l'ultima, la numero 3, Mary, le rifaivi rivedere, si, me le fai, me le fai rivedere, ah, ok, mi sei inficciata la tastiera, è uscito un Mary, è uscito un Mary, e Giorgia, ma io non ho, pantaloni in saldo, in jeans, quindi, devi cercare, tra le nostre foto, se trovi un jeans, che ti piace, lo ordiniamo, me lo mandi su whatsapp, ok, Giorgi, allora, ragazze, ultimi due pantaloni, in tessuto, bello caldo, panno, però belli morbidi, prezzo scontato, 14,90 euro, da 80 a 160 di vita, da 100 a 160 fianchi, lunghezza 102, non ho capito, se mi avete dato il tè di ciclammino, sì, sì, Emil, l'hai avuto, lo ordiniamo, va bene Giorgia, quando vuoi, mandami il messaggino in privato, allora, Elisabetta prende la mantella numero 3, Elisabetta Fornari, quindi sono terminate, benissimo, allora, qui abbiamo, gli ultimi due pantaloni, la fantasia numero 2, sui toni del ciclamino, più o meno ciclamino Bordeaux, e la numero 4, sui toni del marrone scuro, Pina de Giorgi, marrone, parliamo del pantalone, giusto Pina? e qui abbiamo il numero 2, sui toni del ciclamino, ok, Sabrina Codato, è uscito un messaggio adesso, sopra gli altri, Bordeaux, parliamo di cosa, Sabrina, ma non del pantalone, è giusto? se parli del cappotto, è già andato via da un bel pezzo, eh? però Bordeaux, sopra Pina de Giorgi, credo che sia il pantalone, allora, Sabrina Codato, mi confermi se è il pantalone, ah, perfetto, ha scritto pantalone, te l'abbiamo dato, Sabrina, grazie, io comunque c'ho dei problemi con i prezzi, eh? ma tu non c'hai solo dei problemi con i prezzi? tu sei bravissima per la geografia, è bravissima lei, per la geografia, per la geografia, le scienze, italiano, ma per, tu dici per le, le sigle, ah, sì, sì, ma che si buciarda, mamma mia, guarda, allora, allora, maglioncino, scollo a V, pelosetto, bello morbidoso, tutto bello lucido, prezzo scontato, vediamo un po', 13,90 euro, 150 fino a 180 sul giroseno, fianchi partiamo da un 180, circa e arriviamo comunque intorno ai 180, la lunghezza davanti siamo intorno ai 62, 63, dietro una decina di centimetri in più, quindi intorno ai 72, 73, ne ho uno con il bianco, uno con il blu elettrico, molto carino, uno ciclamino, ti abbiamo letto Simona, ma di qua è arrivato prima il messaggio, e due con il nero, che era, un elicottero? che ne so, perché è stato a guardare qui con l'aria? che avete visto? perché è stato a metà fastidio, ci sta? adesso scatta la violenza, 13,90, maglioncino, collo a V, pelosetto, allora, adesso abbiamo fatto, un attimo, io approfitto per bere un goccino, pensa chi ci sente, io approfitto per bere un goccino, prego, dice approfitto per bere, devo aggiungere di acqua, dici? va bene, zitta, non mi fa pensare, guarda, allora, scusa, hai detto 140 di vite i pantaloni? quali? quelli che ha preso Pina, questi qua, non lo so, ragazze, prima dovete sentire le misure, poi, li prenotate, io l'ho buttata le misure, non me li ricordo adesso, mi sembra che ci arrivano a 140, non me lo ricordo, guarda un po' chi c'è, ciao Gioietta, bianco pelosetto per Gioietta, come stai? Sì, sì, ci arriva, Ammaira conferma che ci arriva, ciao Pina, Gioietta, quant'è che non, che non, che non, è tanto che non la vediamo, che non la sentiamo, è vero, chi sa in quale parte d'Italia sta in questo momento, lei che bello, che gira tanto, un e sei picciotta, un e sei, che bello che lei gira tanto, gira, gira, un rigira, allora, ragazze, nero ciclamino blu elettrico, abbiamo detto 13,90 euro, davvero Gioietta, no, ci devi raccontare, non in diretto ovviamente, no, 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 scrivici, facci sapere come mai, come mai, a me mo' dici a voce, perché mo' vengo, sì, andiamo tutte, tutte in Sardegna, allora, brava, che continua a girare, bella da te, bello, loretana Lorenzini, ciao lori, blu elettrico, 13,90, ragazze, ne rimangono due neri, e uno ciclamino, poi, andiamo con due abiti, ok, al ginocchio, in ecopelle, uno color panna, uno bordeaux, 120, 150 seno, 140, fino a 160 fianchi, lunghezza, 90, è in sconto, da 29,90, a 19,90, solo due colori, questa è la collezione, della scorsa settimana, ragazze, ultimi due pezzi, non ho capito perché, molto molto carino, in ecopelle, ma questa è la collezione, mi c'era tutte e due, adesso arriva qua, poi arriva qua, Silvia, lascio la gonna di prima a bordeaux, la avevo presa per mamma, ma mi ha detto di no, meglio dirlo subito, sì, infatti Emi, meglio dirlo subito, anche perché oggi è la giornata degli sconti, allora, quant'era questa? 13,90, allora ragazze, rientra la gonna lunga, in lana, a 13,90 euro, moito, tutte le parti mancano qua, ok? mi sono distratta, chi è? questa idoprata, quanto viene? 19,90 scontato, scusa, ma prego, ma si figuri? non lo faccio più, non lo fare mai più, chi? no? allora, poi continuiamo, ma perché non mi fai un carrello unico, tra ore? c'è spazio? ma un po', vabbè, vabbè, se no dai, aspettate che levo qualcos'altro, dai, ma intanto faccio un po' di spazio, allora ragazze, ultime tre, maxi casacche, questa volta in, eh, cotone garzato, ma che se è così, cotone garzato, elasticizzate, favolose, disponibili, nera, verde militare, e grigia, il prezzo di sconto, da 29,90, anche queste scendono, a 19,90, ultimi tre pezzi, 150, 180, seno, oltre i 180, anche sui fianchi, lunghezza davanti 70, dietro 88, non si vede quello che scrivo, vestito panna, dice, Lina di Tora, perfetto, eh, ce l'ho su whatsapp, ciao Saretta, buon suor, mazzavo oggi, sei proprio internazionale, Loredana Lorenzini, grigia, eccola per te, Lori, 19,90, queste felpe, ragazze, sì, 19,90, le felpe, me ne rimane, una con il nero, guardate che carina, e una con il verde militare, per chi non vuole, delle cose, troppo invernali, troppo pesante, queste sono in cotone carzato, belle elasticizzate, belle comode, queste, allora, poi, ultime due mantelline, una con il bianco, una con color cioccolato, ultimi due pezzi, ultimi due colori in negozio, 12,90 euro, non mi chiedete le misure, perché uno sciarpone mantella, non saprei come darvele, ma non va azzardate proprio, ma non fa darrabbia Tiziana, eh, è questo Saretta, come internazionale oggi, bonsoir, io ho letto, buona solita, poi, no, buona solita, no, Saretta, ma che, ma ho letto bene, o è a solita, è un bianco, bianco per, ma perché ti stai accalorando, perché fa caldo, che ne so, chi può farlo, ultimo cioccolato, no, è andato via, gioia, se n'è andata, mi è rimasta sola con il marrone, poi, stavamo chiacchierando, arriva lei, Zanetti, bianca, allora, così mi sentite, perché ti stai accalorando, allora, batte tutte e due, perché non la sentiamo, perché non ce la filiamo proprio, batte tutte e due, me lo io, a botte, a botte, che scatatura la penna, che botte vuole fare questo, manca penna a mano, riesce a tenere, poi c'è uno striccio di penna qua, allora ragazzi, casacchina, con l'albero della vita, con i cuoricini, mia felpa verde, Rossella Marchese, ah, ok, eccola qui, ok, allora, casacchina in lanitta, con l'albero della vita, molto molto carina, scontata, a 13,90 euro, da 100 fino a 150, seno e fianchi, lunghezza 66, allora, vedo oltre, bianca e rosa, la casacca dell'albero della vita, pronte per te, gioia, eccole, fatto, allora, mi rimane la blu scura, con l'albero della vita, color jeans, e grigia, tre colori, ragazze, 13,90, ripeto, in lanitta, Lina, se ti piace qualcosa, continua a scrivermi, su whatsapp, visto che, non ti vediamo, in diretta, Olvia, Olvia Nico blu, Elisa, non ce l'hai fatta con la blu, perché sopra ha scritto Olvia, Roberta Cantinotti grigia, ok, Cesarina blu è andata via prima, se vuoi, ragazze, rimasto l'ultimo color jeans, l'ultima jeans, vediamo un po', si si Roberta, a te ti vedo, Antonella Savoia, jeans, e sono finite, 13,90, ok, continuiamo, ce l'hai fatta Cesarina, no, adesso invece abbiamo, adesso abbiamo, pantalone, in ecobelle, modello a zampa, ok, vestibilità, bella, comoda, perché parliamo di vita, da 80 a 160, fianchi da 120, superiamo i 160, lunghezza 104, ecobelle elasticizzata a zampa, prezzo scontato, scendiamo a 14,90 euro, ho 5 colori, bordeaux, il verde bottiglia, il panna, il ciclamino, e questo che ho in mano io, che è un verde militare, ragazze, 14,90, super comodi, perché sono molto elasticizzati, quindi belli, non danno fastidio, non stringono, comodissimi, e poi carino il modello, come vedete, insomma, zampetta morbido sotto, poi quest'anno, le ecobelle va tantissimo, forse più degli altri anni, scontati, 14,90, ragazze, poi, qui intanto ho, ultimi due camicioni, maxi, diciamo che sono degli abitini, in raso, al costo di 9,90 euro, con il maculato, con il verde, e il maculato, con il marrone, 130, 160, seno, 150 fino a 170 fianchi, lunghezza, 96, 9,90 euro, ragazze, miei camicioni, Gabriella Castriota, fatto cabri, Rossella è andato via, mi dispiace, a mio, mio verde, quale, Rossella? Il verde, bottiglia, o, il verde, militare, quale dei due verdi, perché ne ho due tipi diversi, dimmi tu, quale preferisci, allora, vediamo un attimo, Rossella, quale vuole, intanto, vado con un'altra cosina, lei intendeva i camicioni, camicioni, ok, poi, ah, ok, va bene, allora, ragazzi, già che facevamo vedere, delle cosine, in ecopelle, vi faccio vedere, anche questi, ehm, gilet, molto carini, corti, sempre in ecopelle, che da 29,90, mi scendono, a 19,90, mi fanno, 110, 130, di seno, e di girovita, ai fianchi, non ci arrivano, perché, chiaramente, come vedete, è un gilet corto, infatti, la lunghezza, è di 57, prezzo, 19,90, abbiamo, come colore, il, l'ottanio, il bianco, e il panna, solo tre colori, ripeto, sempre, il neopelle, elasticizzato, bianco, per, Antonella Griscuoli, eccolo, Anto, ciao, buon pomeriggio, l'ottanio, per Serena, Alessi, ok, rimane, solo, il panna, l'ultimo, l'ultimo, panna, allora, poi, proseguo, ciao Barbara, proseguo, con, Cristel, vorrebbe rivedere, i pantaloni di pelle, come no, sono a zampa, e Cristel, scontati, a 14,90, da 80, a 160, di vita, 120, fino a oltre, fianchi, abbondanti, lunghezza 104, ho 5 colori, verde militare, bordeaux, questo panna perlato, molto carino, ciclamino, e l'ultimo, che è un verde gucci, e poi, vi ricordo, anche l'ultimo gilet, panna, da 30, a 19,90, arriva a 130, di seno, ed è lungo, 57, come vedete, i fianchi non ve li do, perché non ci arriva, poi, proseguo con, la, questa, maxi casacca, in lanetta, tra l'altro, morbidissima, molto molto carina, con questo disegno, ciclamino, nero e verde bottiglia, allora, ciclamino, verde bottiglia, nero, no, nero non c'è, Cristel, nero, o verde bottiglia, ah, nero non c'è, quindi ti do, il verde bottiglia, e il ciclamino, perché nero non c'è, ok, Cristel, mi rimane poi, il panna, il bordeaux, e il verde militare, ok? Allora, poi, dicevo, per quanto riguarda, la casacca, in lanetta, è scontata, a soli, 13,90 euro, da 130, fino a 180, sia il seno, e sia anche i fianchi, la lunghezza, di 78, e scende a 13,90, ne ho una con il blu, una con il marrone, blu per Maria Antonietta, a brunetti, quindi, con il marrone, andata via, Nausica, Antonietta, ha scritto prima di te, 13,90, bordeaux, e grigia, grigia, per assunta, barresi, mi fai vedere, la maglia ottaneo, quella vicina al giubbotto, con il giatto, a la felpa, dici Loretana, no, quella, questa dici, Lori, se questa è scontata, a 19,90, Bianca Maria Giordano, marrone, eccolo per te, Bianca Maria, è rimasta solo bordò, la maxi maglia, con il fiore, allora, ehm, Pina non ce l'hai fatta, con il marrone, Michela Intini, bordò, eccola per te, Michi, sì, questo, allora Loretana, questo fa, 130, 170, seno, 140, 180, fianchi, lunghezza, 75, ed è scontato, a 19,90, dimmi se lo puoi, Lori, perché è l'ultimo, allora, allora, l'ultimo, quindi eccolo, fatto Lori, allora ragazzi, qui invece ho due pantaloni, uno con il nero, scontato da 25, euro, a 14,90, ed è un cotone, pesantino, bello pesante, taglio classico, 80, 124, di vita, 120, fino a 160, fianchi, lunghezza, 95, ok, ed è nero, eccolo qua, ma sembrano, quanto è scontato? 14,90, poi, la versione con il blu, mi va, da 90, a 130, nero per l'onora montana, eccolo, la versione blu, mi va, da 90, a 130, di vita, 130, 100, più di 160, fianchi, lunghezza, 100, questo è blu scuro, sempre, 14,90, cotone pesante, considerate che veniva 25, quindi, super sconto, veramente, e sono gli ultimi, che hai fatto? Ah, allora, invece, qui abbiamo, cinque completi, ragazzi, meravigliosi, cinque completi, guardate che spettacolo, vi dico solo che questi sono in punto Milano, e questo completo costa 50 euro, lo potete verificare, perché sono pubblicati, io oggi per lo sconto a 39,90, cioè, veramente, parliamo, insomma, di un, di un bello sconto sostanzioso, ma parliamo di modelli nuovi, punto Milano, 120, 160, seno e fianchi, lunghezza della casacca, circa 68, 69, il pantalone, invece, di vita, mi va da 80, a 160, fianchi da 130 a oltre 160 abbondanti, lunghezza 98, ragazze, 39 euro, questo completo bellissimo, in punto Milano, cioè, come dicevo prima, uno dei migliori tessuti che c'è in questo momento, in circolazione, marrone, poi è pure ben assortito, guardate che bello, e poi questo dettaglio anche qua sotto, grigio scuro, poi in blu, guardate che bello anche blu, in nero, e poi in verde, verde smeraldo, ragazze, qua dovete approfittare, perché veramente, un completo a 39,90, punto Milano, è difficile, veramente, simona Ferranti, grigio, grigio, per simona Ferranti, eccolo qua, perfetto, ragazze, fatevi avanti, perché ripeto, ne vale la pena, è il tessuto, che la fa la padrone, qui c'è, è quello che è veramente, ottimo, che pizza, nella mia zona, siamo senza corrente, mi scrivono i vicini di casa, già da un po', già da un'oretta, che va avanti questa storia, vedo che scrivono, che si lamentano, che tristezza, che brutto, pensa c'è oggigiorno, senza corrente, oppure senza acqua, mamma mia, senza acqua no, senza acqua è tremendo, senza acqua è tremendo, senza corrente può stare, almeno due o tre giorni, eh ma pure senza corrente, cioè si ferma il mondo, come te lavi con l'acqua fredda, eh? Allora, ragazze, io ve li lascio qui, pensateci, riflettete, le misure sono abbondanti, approfittate, nero per Maddalena Pagano, ciao Maddalena, come stai, tutto bene? Buon pomeriggio, allora Silvia, una domanda, posso ritirare martedì, se non crea problemi, perché sono in Toscana, ma certo Eleonora, tranquilla, nessun problema, Eleonora, riparti la calamita? Ma puoi chiedere così alle clienti? Ma che sei sfacciata? Ma poi ce do un bacetto a Eleonora, eh? Oppure con troppa acqua, quasi alluvenata, eh così no, per carità, veramente ragazze, quanto mi dispiace, chi sta nelle zone colpite, mamma mia, guardate, veramente, eh, allora, senza acqua, tutta l'estate, da noi in Sicilia, un incubo, a caricare le cisterne, mamma mia, Giorgia, non vi invidio neanche così, quando è troppo è troppo, quando è poca, pure un problema, cioè, ma ti rendi conto, mamma mia, allora, ragazze, io invece qui ho, un maxi maglione, guardate che bello, è tipo la felpa che abbiamo visto, inizio diretta, però quello, aveva la scerniera, invece qui è un maglione, con la manica, vedete, immaculata, guardate che carino, il prezzo di sconto, lo faccio scendere, a 14,90 euro, io sono completamente isolata, ma, cazzo, davvero, Anna Lì, mappa, allora, dicevo, 14,90 euro, ragazze, maxi maglione, quasi quasi, potete utilizzarlo, anche come, vestitino, come un abitino, perché vedete, com'è bello lungo, da noi, quando manca la luce, non funziona la pompa dell'acqua, quindi senza luce, senza acqua, giusto Robby, è vero, anche da me, se va via la corrente, si ferma tutto, a me neanche, gli avvolgibili di casa, si aprono, non rimango chiusa, allora, ragazze, 140, 180, seno e fianchi, lunghezza, 88, scontato a 14,90, per metterlo sul pantalone marrone, che colore dici, questo qui di maglione, beh, sul marrone, io andrei con un panna, una cosa neutra, oppure, in alternativa, il rosa, che lo vedo bene con il marrone, ma nero, blu, e bordeaux, a me, onestamente, non mi piace, sul pantalone marrone, invece, il rosa, e il panna, ce lo vedrei, allora, ragazze, bordeaux, rosa, poi, panna, nero, e l'ultimo, con il blu, maxi maglioncino, che ripeto, potete anche, volendo utilizzarlo, allora panna, per Pina Giorgi, eccola qua, dicevo, potete anche, addirittura, usarlo anche come, quasi un abitino, insomma, la fortuna di abitare in campagna, quando piove, isolati da tutto, eh, mamma mia, vabbè, allora, mio nero, per Emi Marti, ok, Emi, eccolo, allora, mi rimane, il bordeaux, il rosa, e il blu, 14 e 90, ok, intanto, proseguo, Simona Nardin, bordeaux, sì, arrivo, Simona chi? Ah, ok, eccolo, Simona, sì, ti indossi, il pantone, avvicinatevi, i maglioni, ah, vabbè, tanto abbiamo già fatto, Serena, maglione rosa, per Loretana Lorenzini, eccolo, allora, ne è rimasto uno solo, ragazze, solo il blu scuro, non ci avevo pensato, effettivamente, Serena, allora, poi ragazze, qui ho un pantalone, invece, modello a palazzo, in tessuto, jersey, il prezzo di sconto, è di soli, 11 euro, e 90, le misure sono, da 100 a 150 di vita, fianchi da 120 a oltre 150, lunghezza 103 circa, blu elettrico, blu scuro, poi bianco, questo petrolio, e panna, allora, bianco e panna, per gioietta, eccolo per te, gioia, allora, mi rimane, petrolio, blu, e blu, e blu scuro, e blu elettrico, 11 euro, e 90, allora, petrolio, per Serena, adesso, eccolo per te, Serena, allora, a me se viene, eh beh, si Roberta, se ti serve un qualcosa di specifico, sì, altrimenti, il completo marrone, anche questo che ho fatto vedere poco fa, in tessuto.milano, è in sconto a 39,90, altrimenti, vai sulle nostre foto, trovi tantissime cose, tante, tante, vedi qualcosa che ti piace, me lo giri su whatsapp, se c'è in negozio bene, altrimenti si ordina, tanto noi domani andiamo, nei magazzini, a rifornirci, come sempre, allora, qui invece abbiamo, ultime, due, eh, ultime quattro, camice, in raso, completamente abbottonate, fino in fondo, collo classico, scontate, a 14,90, c'ho, il grigio, lo champagne, il tiffany, e il magenta, 134 di seno, poco più di 140 sui fianchi, lunghezza 75, quattro colori, consigliate che queste vengono 20, sono solo quattro colori, scendono a 14,90, che è, ma? Che ti sei incantata? champagne per Sonia Dimitri, dimmi, Danna Giussi, Grigia, 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 Danna Giussi, ok, ciclamino anche per Sonia Dimitri, quindi Sonia sono due, una champagne, una ciclamino, rimane solo la Tiffany, l'ultima Tiffany, ragazze, carinissima, guarda che bello anche il Tiffany su blu scuro, guarda che carino ragazzi, Tiffany su blu scuro, bellino come abbinamento, ultimo pezzo, allora, intanto, allora, qui abbiamo, dei giacchetti corti, allora, giacchetto corto ragazze, carino, tipo bomberino, in cotone pesante, foderato all'interno, da 29,90 mi scende a 19,90, molto carino, 120, 130 di seno, 80 fino a 120, diciamo girovita fianchi, perché poi è un po' corto, lunghezza 60, non proprio fianchi, io ho più girovita, raga io ho visto a tratti, poi la rivedo con calma in verticale, va bene Sara, tranquilla, se vuoi aggiungere, poi mi mandi i soliti messaggini, allora, 19,90, giubbottino verde, poi, panna, guardate che carino, vedete, è foderato all'interno, grigio anche, bellino, Sara, ecco per te Sara, Sara pure grigio era bellino, eh, molto molto carino, anche grigio, eccolo qui, con il panno, e con il verde, orvia nero, se ne è già andato, se vuoi c'è il grigio, panna e verde militare, grigio per orvia, ok, panna e verde, ultimi due colori, allora, pannella savoia verde, si arrivo, aia, che è rimasto, se lo panna, ok, ragazzi, ho gli ultimi pezzi, gonna, il raso, carina, lucida, molto molto carina, 9,90 euro, ho quattro colori, e sono finite la serie, 70, 130 di vita, 140, 160 fianchi, lunghezza, 107, argento, blu elettrico, questo bellissimo rosa barbie, e champagne, quattro colori, 9,90 euro, ragazze, ultimi pezzi, è anche buona la vestibilità, tra l'altro, chi ce l'ha a casinare con noi? A Giorgina, Giorgina, allora, ultimi due pantaloni, in punto Milano, modello sportivo con l'accetto favorosi, prezzo scontato, soltanto 15,90 euro, parliamo di panna e ciclamino, che tra l'altro si possono abbinare con tante cosine che abbiamo visto oggi, 80,140 di vita, da 110 a più di 150 sui fianchi, lunghezza, 100, panna per Eleonora Montana, fatto, mi rimane questo bellissimo ciclamino, 15,90 euro, ma è uguale al giacchettino, prenditi anche il giacchetto, Eleonora, Antonella Grisfuoli, rosa, mio rosa, di che parli del pantalone, Anto, e quello che io ho chiamato ciclamino, che ha detto mio, ha scritto mio rosa, quindi, perché sennò scriveva mia, se era la gonna, no? Franca non ho capito che è scritto, mi è scritto, Stefania D'Ambrosio invece la gonna champagne, non capisco, sì, Antonella ha confermato che è quello la ciclamino, allora, questo qui, che sono rimasti due colori, pina, fa da 100 a 150 di vita abbondante, fianchi da 120 a più di 150 abbondanti anche qua, lunghezza 103, ok? È rimasto blu elettrico e blu scuro, non cussi, ah, dici questo qua, questo in cotone pesante, questo fa 90-130 di vita, poi fianchi da 130 a 160, lunghezza 100, solo argento, ok pina, ci sei? Franca c'è solo argento la gonna, con argento per la mano, ok, 990, allora, pina ha detto ok questo, ok, te lo do, eccolo qui, 1490, allora, aspetta che mi si è levato i messaggi, eccoli, ok, questo perfetto, qua c'è un Patrizio Epifani che mi dice, ciao Silvia, mi dai il maglione con maniche maculate, ma date uscito sto messaggio mo, ce l'ho sopra a Pina De Giorgi, il maglione con le maniche maculate, ah, questo, eh, Patrizia mi confermi che lo vuoi, eccolo qui, Patrizia Epifani, dimmi sì, e mi è comparso mo, Pina De Giorgi dice, la maglia blu notte, qual è la maglia blu notte, raga? 1490, ma di quale parli Pina, di questa qua lucida? Silvia scusami, vuoi cambiare il giacchetto corto verde con il panna, va bene? Patrizia dice che lo vuole, eccolo qua, fatto Anto, cambiato, rientra verde militare, quelle che è dato ora, è andato via, ah ok Pina, allora è andato via, va bene, va bene, ecco perché non capivo infatti, ok benissimo, allora, no figura di Anto, non ti propone più veloce di così, l'hai detto subito, allora vado avanti, proseguo con un altro pantalone, attenzione ragazze, perché questa è la versione, diciamo una via di mezzo, tra Punto Milano e Muta, molto molto bello questo tessuto, anche se sembra un po' più Punto Milano, però molto bello, costa 25 euro, oggi lo scontiamo, a 16 euro e 90, però ho solo due colori, il biscotto, e il verde militare, sono favolosi questi, 70-140 di vita, 110, più di 150 fianchi, lunghezza 98, ma niente niente sui miei, io c'avevo la cinta marrone, allora sono quelli, perché vedi pure a me stanno belli morbidi, ce n'ho di spazio addosso, verde biscotto per Bianca Maria Giordano, ah, quindi tutti e due Bianca Maria, giusto? è del biscotto, eh sì, non è, ok, ragazze sono andati via, l'ha presi entrambi Bianca Maria, ok, poi, andiamo con una casacca, eccola qui, è disponibile in due colori, sempre un biscotto, e un color panna, il prezzo scontato, è di soli, 12 euro, e 90, sempre con l'albero della vita, però questa volta, tutto brillantinato, con il cuoricino al centro, la vestibilità è fino alla 58-60, perché mi fa 120-170 seno, 130 fino a un massimo di 180 abbondante fianchi, lunghezza circa 67-68, gioia panna, Nausicaa panna è già andato via, se vuoi c'è biscotto, pure che è carina, dimmi Nausicaa se vuoi il biscotto, o poi? Se vuoi il biscotto, sembra che gli è soffritto a mangiare, però va bene, intendevo se volevi la casacca a biscotto, anche perché se qua c'avevo qualcosa da mangiare, l'avevo mangiata io, Isabella Pansini, rosa, la gonna Isabella? 9,96 è la gonna, Isabella dimmi se è la gonna in raso, Francesca Fanfoni, ah l'ha cancellato perché non c'è più, allora gonna in raso a 9,90 è rimasta solo blu elettrica, l'ultima, dove vai? dove vai? Stefano vieni dentro, sta venendo infatti, Allora ragazzi, super gilet, molto molto carino, con bottoncino, come dire, com'era la cosa? Allora, Isabella Pansini, mi dici se la gonna in raso o rosa la vuoi? E poi questo a biscotto? Isabella, però rispondimi, perché sennò non capisco, la casacca a biscotto con l'albero della vita, immagino di sì, tu prima hai scritto rosa, che cos'era rosa? La gonna in raso? Ma che sai combinare? Non si sa, vabbè, Ok, allora, questo, questo, maglia a biscotto, mi pareva rosa la maglia, ah ok, quindi la gonna non la vuoi, ti do solo la maglia a biscotto allora, ok, allora ragazzi, dicevo, qui abbiamo un cardigan, è un gilet bellissimo, con bottoncino laterale, vedete, molto molto carino, aperto così, cioè c'è il passaggio del braccio, e poi aperto anche sotto, molto bello, in lana pesante, pensate che questo gilet costa ben 24,90 euro, perché, ripeto, è una bella lana morbida, tipo lana merino, insomma, bella pesante, scontato oggi, a 16,90 euro, 120, fino a 180, sia seno, sia fianchi, lunghezza 74, è disponibile in rosso bordeaux, in blu scuro, panna, anzi, più che panna, sembra quasi un tortora, poi, in marrone, verde pistacchio, e l'ultimo, grigio, è Stefano, è Stefano che fa casino, Antonella Savoia, blu, eccolo per Antonella, blu, allora, bordeaux, panna, marrone, grigio, per Simona Nardin, ok, marrone, per Francesca Capri, Isabella marrone, è appena andato via, se vuoi c'è bordeaux, panna, o pistacchio, ultimi tre colori, rosso, per Rosalba Rossi, Elena non ce l'hai fatta, Rosalba l'ha preso prima di te, è rimasto panna e pistacchio, ultimi due, panna e pistacchio, Franca Ingrami prende la conna Barbie, ok, Franca Ingrami la conna rosa, bellissima, allora, il gilet è rimasto solo in panna, pistacchio per Isabella Pansini, allora, l'ultimo pezzo panna, ragazze, pistacchio, panna, solo, soletto, zitta, io a pensare che me sta aspettando, una cena da paura stasera, guarda, non vedo l'ora di andare a casa, ragazze, panna, l'ultimo è rimasto, allora, intanto vado a prendere altro, poi, ultimi tre pantaloni, tessuto bengalino, quindi il tessuto, quello in viscosa, più leggero, non invernale, ok, 90, 114, 116 di vita, 120, 140 fianchi, lunghezza 102, petrolio, ciclamino, e bianco, sono scontati, a soli, 13,90 euro, panna per Rossella Marchese, mi rimane, ciclamino, e petrolio, quello l'avevi chiamato panna, il gilet? Ah, hai ragione, il gilet, infatti mi ha scritto, scusate, ho sbagliato io, è vero, è vero, anche perché questo è bianco, non parlo mai più, no, 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 per carità, non mi permetterei mai, io cosce di pollo e patate, allora, io frittura di pesce, la mi son lavata, preparata, tagliata tutto il pesce, anche le verdure, io mangio il pesce, io ho fatto la peperonata, e gli hamburger di chianina, però li schiaccio più sottili, io quelli ho fatto al mio figlio piccolino, Alessio, perché lui là il pesce, non lo ama tanto, allora lui la ciccetta, e noi, il pesce, ma hai preso il cefalo, no, ha preso i calamari, e le patate, allora, bianco, ciclamino, e petrolio, ragazzi, 13,90 abbiamo detto, vero? I pantaloni, giusto, 13,90, ok, andiamo, all'orta, coi la menduccia, mamma che puzza, mamma che puzza, mamma che puzza, io mi sono levata, io mi sono levata, qua sta scattando l'anzianità che è in te, sì, perché queste cose neanche mia nonna, sì, sì, questa è una canzone di, quindi vive la tua nonna, no, infatti è morta già da anni, nonostante ciò non la cantava, figurate un po', ecco perché stai a fare un canto, ma giusto per cantare, ma però vabbè, non è che mi devi trattare così, davanti a, 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 a 250 persone, a tutta Italia, a tutta Italia, a darti della vecchia, io non l'avrei mai osato, buona Cesarina, buono pure quello, io a quest'ora me mangerei pure a voi, se ve vedo di persona, io se ve vedo di persona, pure a voi le mangio, guarda, Silvia potrei rivedere il giubbino, col disegno del gatto, eh, un attimo Marilena, perché sta mangiando adesso il gattino, perché è ora di cena, esatto, va bene, allora Marilena, la fantasia 1 è quello con la tigre, la fantasia 2 è quello con il gatto che mi chiedevi, da 30 sono scontati a 19,90, e sono giubbottini proprio, perché sono belli pesanti, miau, sì, confermo, confermo a 19,90, confermi Simo, ricordo, brava, grazie, andiamo bene, andiamo proprio bene, eccolo, allora ragazze, ultimi tre leggings, questa volta modello leggings, in ecopelle, prezzo super scontato, a soli 11,90 euro, ne ho due verdi militari, e uno ottanio, 90-150 di vita, da 110 a 160 sui fianchi, lunghezza 100, prendo quello con la tigre, va bene Marilena, eccolo con la tigre, ma veramente sono due in uno, perché la tigre si è mangiato un gatto, e il gatto per giù si scaccia, ok, quindi sono terminati, allora ragazze, leggings in ecopelle, 11,90 euro, ne ho due pezzi verde militari, e uno in ottanio, 19,90, poi, il gatto è andato via, ragazze, verde militare, per Patrizia Rifani, eccolo, ce n'è un altro verde militare, se volete, e uno ottano, un 19,90, poi ho trovato, nei vari carrelli, altri due, altri tre, gilet, uno marrone scuro, uno cuoio, e uno panna, sempre a 19,90, un panno per Isabella Pansini, eccolo, mi rimane l'ultimo verde militare, in ecopelle, allora dicevo, panna, cuoio, e marrone scuro, sempre 19,90 scontati, le misure sono le stesse, ciao Romina, fino a 130 seno, lunghezza 53 circa, grazie Romina per le condivisioni, grazie tante, allora, ultimo leggings in ecopelle verde militare, ultimi tre gilet, in ecopelle, a 19,90, io voglio il sorcio, Tiziana se lo trovo, te lo compro, poi, ultimi due pantaloni, in pile, uno con il nero, uno con il verde, dei pile belli pesanti, è finito il foglietto, eccolo là, allora, uno nero, uno verde militare, prezzo scontato, 13,90 euro, da 90 a 142 di vita, oltre 160 fianchi, lunghezza 99, questo va a, ho letto, Ezia brucia, se l'è mangiato il gatto, inizia tra poco, se mangia pure il pesce, e infatti, allora, vedo oltre verde, eccolo per te, e nero per Simona Nardin, ragazzi, Simona, il nero non ha il laccetto, ma no, perché è un errore, è lo stesso modello, ma non c'è il laccetto, confermami che va bene, le misure sono comunque grandi, però, te lo dico per correttezza, danni conferma, che va bene lo stesso, anche senza il laccettino, Allora, poi, qui abbiamo, una maxi tuta, ragazzi, questa è molto, molto bella, e tra l'altro, dietro, è anche elasticizzata, c'è l'elastico, quindi comoda, allora, questa mi arriva, intorno ai 130 di seno, 140-160 fianchi, lunghezza 132, consigliate che Denise l'ha indossata, il prezzo in sconto, considerate che questa veniva la bellezza, di 36 euro, oggi è in sconto a 19,90, se volete fare una cosa carina, è molto simpatica, indossare sotto, o un body, o una camicia, manica lunga, con il colletto classico, che esce fuori, l'ho vista indossata da una modella, ed è molto simpatica l'idea, ok, quindi vi fa come se aveste, un top, con la manica, il collo sopra, della camicia, e diventa un completo spettacolare, blu, nero, nero, Silvia vorrei il completo ciclamino, quello con la maglia scollata a barca, ma quello di ieri, è quello in lurex, confermami se è quello di ieri in lurex, col pantalone a palazzo, se non mi si, eh sì, perché poi ha detto, con la maglia scollatura a barca, solo quello c'era, allora, poi, sì, ok, te lo prenotiamo, che colore? ciclamino, va bene, allora, poi, bordo, tortora, e, marrone, ragazzi, approfittate, da ben 36 euro, quasi un 50% di sconto, a 19,90, guardate che è molto bello, andatelo a vedere indossato da Denise, molto molto carino, ok, vediamo un attimo, allora, Barbara Mariella, la tuta nera, ho letto ora, eccolo, ho fatto Barbara, la tuta nera per te, ragazzi, approfittate, perché il prezzo è ottimo, è molto molto carina, e poi è comoda, comunque, allora, poi, continuiamo, allora, andiamo con ultimi 5 maglioncini, ragazze, in lana pesante, 150, 180, seno e fianchi, lunghezza 65, belli, perché hanno la manica tre quarti, quindi voi, questa, diciamo, qui sotto ci potete mettere, una bella camicia, dove vedete spuntare fuori il polsino, e anche magari il colletto qui in alto, bellissima, sono scontate, lo dico subito, a soli 13,90 euro, questo mi è rimasto in mano, 13,90 euro, questo color salmone, blu elettrico, poi, questo color salvia, in grigio, e in ottaneo, ragazze, pochi pezzi, 5 colori disponibili, 13,90 euro, però questo con il blu, mi sembra l'unico diverso, e vabbè, Ezia sta ordinando altre cose, però conviene che lo fa, altrimenti così come faccio, Ezia, però non mi ordinare in diretta, cose che non stai guardando qua, perché, mo quella ho capito, però non è che posso stare a interpretare, Elisabetta Fornari, azzurro, eccolo, Francesca Capri, grigio, eccolo, oddio azzurro è quello, no? Sì, 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 perché questo è Ottanio, allora mi rimane Ottanio, verde e salmone, Ezia, scrivimi in privato, perché giuro, se no non capisco, quella Piedipull, di ieri sera, Fantasia al Verde Militare, ma qual'era quella Piedipull, manco ho capito, Laura Gallini, salmone, mica riesco a capire qual'è, qual'era ti? Sì, ho capito qual'è, ma non è un crucio, no? Perché mi dice, ieri sera, Simona Granata, Ottanio, eccola, rimasto l'ultimo pezzo, verde, salvia, 13 minuti, allora ragazze, volevo prendere un minuto per specificare una cosa importante, abbiamo ancora un po' di diretta, non è che sto chiudendo, però vorrei ricordare, a chi magari ha preso un pezzo, due pezzi, o anche tre, che domani e dopo domani, c'è la chiusura dei pacchi, a noi, o avete ordinato un pezzo, o non avete ordinati 100, non fa differenza, noi a fine settimana, chiudiamo i pacchi, quindi, qualora c'è qualcuno, che dice, no, io ho preso solo un pezzo, ragazze, rinunciate subito, specialmente oggi, che ci sono i saldi, piuttosto che poi, arrivare domani, e dirmi, ma no, ma io ho preso solo un pezzo, posso aspettare la settimana prossima, no, perché noi lo ripetiamo, a ogni diretta, siamo sempre chiare, precise, nello spiegare tutto, quindi, vi pregherei, di fare attenzione, a questa cosa, perché tanto ogni fine settimana, c'è sempre qualche furbacchiona, che mi dice, ma dai, posso aspettare, no ragazze, ok, è una questione anche di correttezza, nei confronti delle regole, di tutte voi, ma è diverso dagli altri, non ho capito, è uguale, ho sbagliato io, allora, aspetta che vado avanti, allora, adesso ho due cappotti, meravigliosi ragazze, lunghi, bellissimi, qua dovete approfittare, da 50 scendono, a 40, scusate, da 50 scendono, a 39, e 90, bellissimi, giù si scaccia, dice marrone, che cosa marrone, non ho capito cosa, gilet in pelle, che colori sono rimasti, e il costo, per favore, Sara, te lo dico subito, ma che cosa, Laura, devo, cappotto, cappotto, giusi, allora, giusi il cappotto, ok, perfetto, eh, lo so, Serena, lo so, allora, perfetto, abbiamo fatto, ragazzi, mi rimane il ciclamino, 39, 90, allora, Saretta, ma le misure, 100, fino a 130 seno, oltre 180 fianchi, lunghezza, 125, i gilet sono scontati, da 29, 90, a 19, 90, Serena, prende il cappotto, finiti, allora, Sara, panna, cuoio, e marrone scuro, 19, 90, in ecopelle, questa è la camicia, ah, ok, ma forse questa tu ce l'hai pure, però, eh, quale? Eh, il leggings, per te, la camicia questa, di ieri, ok, e poi, il completo ciclamino, ma no, completo ciclamino, quale? Ezia, perdonami, io non ti capisco, mi hai mandato una foto, mi ha scritto che la camicia è questa, ok, poi mi ha scritto sotto, leggings verde militare, il completo ciclamino, che sono quelli che hai preso oggi? Che se sono quelli che hai preso oggi, non me lo dire. Il completo ciclamino è quello che mi ha detto, in ordini che è quello l'urex, e il pantalone l'ha preso oggi, quindi conviene. E il leggings verde militare? Ah, la casacca non ce l'ho. Forse è quello che hai preso oggi, ragazze, però, fuori dalla diretta, scrivetemi solo quello che dovete ordinare in più, non mi fate voi riassunti a me, sono io che li devo fare a voi, se no poi non ci capiamo. Allora, Saretta gli dà il gilet maculato, sì, maculato, marrone? Marrone scuro, eccolo. Quanto era? 49,90. Sicura? 49,90 dice Mairetta, io onestamente non me lo ricordo, Barbara, però è da ordinare, perché già oggi ne abbiamo ordinati altri, ok? L'hai trovata la camicia, ma? Non ce l'ho in quel colore. Ah, quindi la dobbiamo ordinare, ok. Allora. Ok. Allora, ragazze, vi faccio vedere, vi faccio vedere un'altra, un'altra cosina interessante, sempre un altro giubbottino, un altro cappottino, molto bello. Silvia, scusa, inizio diretto, hai presentato un pantalone in ciniglia palazzo, sì, ce ne sono ancora, se non hai un problema, farmi vedere, aspetta, ma, ah, in ciniglia palazzo, questi, sì, sì, eccoli qua, quanti erano scontati? 12,90. 12,90, Monica, grigio, verde militare, beige, e marroncino, quattro colori sono rimasti, 12,90, le misure sono 120, fino a quasi 170 di vita, 150, fino a oltre, 170 fianchi, pure 180, lunghezza, ragazzo, sbagliato, perdonatevi, ma questo perché è? Simona, è la nada, ciniglia verde, ciniglia verde, eccolo, grigio per Monica, ok, eccolo qua, 12,90, sì, comunque, ragazzi, oltre 150 di vita, e oltre 170 fianchi, c'avevo un cartellino sbagliato, me ne so porto a volte, allora, poi, cappotto, ragazzi, bello, molto, molto caldo, perché è bello imbottito, in sconto, a soli, 39,90, disponibile, beige, nero, e questo bellissimo, marrone, Michela Antini, marrone cosa, il cappotto, il giubbottino, questo qui, Michela, penso che sia il pantalone, e quale è questo, il pantalone, ciniglia, a marrone, un attimo, Bianca Maria, se Michela, non lo prende marrone, che era il pantalone, allora, il cappotto è tuo, intanto lo levo il cappotto, perché comunque, allora, Michela il pantalone, perfetto, Bianca Maria ha avuto il cappotto, e Michela invece il pantalone, marrone, allora, il cappotto, 39,90 scontato, mi arriva a 149,90, seno e fianchi, lunghezza 87, ed è bello imbottito, sembra un po' in dainetto, perché sembra leggermente pelosetto, un po' tipo cinigliato, molto molto carino, nero e beige, 39,90 in sconto, ultimi due colori, nero per Antonella Savoia, eccolo qua per te Anto, mi rimane il beige, eccolo qui, guardate che bello ragazzi, eccolo qua, oh guarda, sono quasi gli stessi, il pantalone con, parte da 120 di seno, Olvia, non è grandissimo, fate attenzione, poi, ultimi due pantaloni, taglio classico, beige, da 29,90, è scontato al 50%, 14,90, il beige fa da 80 a 110, 100-150 fianchi, lunghezza 98, scontato a 14,90, il nero è più grande, stesso prezzo, mi arriva a 126 di vita, fino a 160 fianchi, lunghezza 102, nero per Francesca Capri, Rosalba in nero è già andato via, l'ha preso Francesca Capri, beige per Claudia Tomezzoli, finiti ragazzi i pantaloni, stop, fuori, allora, attenzione ragazzi, qui abbiamo, delle casacche, dalla vestibilità media, infatti fanno, da 100 a 150 di seno, da 130 a 160 sui fianchi, una lunghezza di 64, prezzo scontato, 12,90 euro, questa per esempio ce l'ho anch'io, marrone, verde, e panna, tre colori ragazze, marrone, verde e panna, un po' stile anni 70-80, guardate che belle, pure abbinabili qua sopra, per esempio, guardate così, oppure anche così, guardate che carine, volendo, perché no, anche col gilet, mandalena pagano, anche col gilet ragazzi, marrone, mandalena pagano, eccola qui, Paola ti posso dare solo il panna, dicevo, Paola mettici pure il gilet, guarda che bello, se ti piace, verde per Francesca, fanfoni, eccolo, ragazze sono finite le casacche, ok, adesso invece, ho due modelli, che rimangono aderenti, 90-130, seno e fianchi, lunghezza 62, ragazzi, ripeto, queste sono aderenti, belle, comode, ma aderenti, il prezzo, anche qua, è 12,90 euro, ce l'ho con il nero, e con il verde, nero e verde, allora, poi, invece, nera per Paola, eh Paola, infatti per te che sei piccolina, queste vanno bene, no Elisabetta, non ce l'hai fatta, mi dispiace, c'erano tante persone, prima di te, la dice 90, allora, ragazzi, se invece qui andiamo, su maglie molto, molto curvi, cioè molto più grandi, di quelle che abbiamo visto, in questo ultimo momento, costo file, scusa, non ho capito Claudia, aiutami, perché non ho capito, non so cosa è scritto, allora, maxi, costo gilet, il gilet, sono rimasti due colori, e sono scontati a 19,90, venivano 30, in ecopelle, allora, le maxi casacche, queste qui, con paillettes, sono in ciniglia, bellissime, maculata con il bianco, e maculato con il beige, beige marrone, 140, 140, 180, seno e fianchi, lunghezza, 77, comunque, se è una droga, complimenti veramente, rendi fashion, chiunque, grazie, Serena, allora, Claudia Tomezzoli, il gilet beige, eccolo per te, Claudia, Eleonora Montana, dice nera, la casacca, giusto Eleonora, questa qui, bella grande, ok, mi rimane, l'amaculata, ah ragazzi, ne ho detto il prezzo, è scontata, a 17,90, perché questa costava, 25, eccola qui, Eleonora conferma, benissimo, uh ma ce n'era tanto, di pantalone, nero, ragazze, un altro pantalone, nero, della taglia piccola, di prima, ok, 14,90, le misure che ho detto prima, più piccole, allora, marrone maculato, per Isabella Pansini, eccolo Isabella, scusate ragazze, non l'avevo visto, questa è la vestibilità, quella più piccolina, di quello di poco fa, è andata via, Bruna Sandri, non ce n'ho più, mio pantalone, per Paola Del Piero, perfetto, fatto Paola, 14,90, no Paola è piccola, allora, ragazze, le ultime due canzacchine, brillantinate, in ligra, bellissime, scontate, a 12,90 euro, anche queste sono, aderenti, attenzione, è come se fossero, un sottogiacca, vabbè, Giussi, 90, 140, di seno e di fianchi, lunghezza 63, che è? Giussi d'Anna, che ha fatto? Fa i spaghetti con le vongole, spaghetti con le vongole, Giussi, non si scrivono queste cose, è maleducazione, che io ho fame, capito? Non si scrivono, non si nominano, i spaghetti con le vongole, avvenente marrone, che? Ah, la casacca? Eccola, Fulvia marrone, Paola, Fulvia ha scritto prima di te, se vuoi c'è Bordeaux, che è carinissima, questa ce l'ho pure io, bellissima, qua è comoda, perché è bella morbida, non molesti fogli, non, 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 Paola, dimmi se la vuoi Bordeaux, che tanto è bella lo stesso, cioè, cavolo, io sto in dieta, io stasera piadino, ma tu stai sempre a dieta, mamma mia, io mi ho andato a casa, mi magno pure mi marito, mi marito è grosso da mangiare, ti ricordi venerdì? Questo dà proprio soddisfazione, ti ricordi? Si è avvicinata la cameriera, a Filippo ci ha detto, guarda, con te è proprio una soddisfazione, perché stavamo a mangiare, me lo immagino, non lo dire, io non ne ho tutti i sabbi, ha solo i verdure, buono pure quello, tutto buono, io mi mangierei tutto in questo momento, guarda, vi dico la verità, se mi capitate voi davanti, una mozzicata la do pure a tutti voi, guarda, mamma quanto c'ho fame, ma tanto tanto, giuro che ho mangiato leggero oggi, ma mo stasera rimedio tutto, io ho mangiato le uova, e basta, io quelle le mangio a colazione, uova e rughezza, stamattina perché volevo mandare la foto della mia colazione, ho detto poi, avevo paura che mi svenivate, me lo posso immaginare, eh? me lo posso immaginare, ma era bella ricca oggi, carina, ho tutto attarecchiato, vedo l'ora e viene sabato mattina, va bene, allora ragazzi, ultimi due pantaloni in viscosa, quindi un po' più leggerini, rosso e nero, modello leggings aderente, sono scontati a 12,90 euro, 70,116 di vita, 90,120 fianchi, lunghezza 96, quindi un medio piccolo, in più aderenti come un leggings, ok? 12,90 costavano 20, allora, allora, eh, avevo preso sì il caffè, poi, proseguo, con, gonne, bellissime, in vero, guardate che spettacolo, ovviamente sotto c'è il suo, sottoconna, così non sono trasparenti, stupende, da 29,90, sono scontate, a 18,90 euro, guardate che spettacolo, allora, da 80 a 160, il giro vita, 140 fino a oltre 180, 190, il giro fianchi, lunghezza 100, io c'ho la fantasia numero 2, la fantasia numero 3, guardate che spettacolo, e la numero 4, solo tre pezzi, ragazze, super comode, super comode, scontate, a soli, 18,90, le persone normali, a me no, portatevi delle mandorle, toglie la fame, sì, le mangio pure a bustina io, Rosalba la numero 4, ci ho provato, ma non a me non funziona, eccola qui per te, Rosalba la 4, perché voi sbagliate candeggio, ah no, volevo dire, perché voi non fate lo spuntino, mi puoi ritire le misure del pantalone che ho preso, Paola qual è, è quello con la 50, Paola io non mi ricordo, però mi sembra che arrivava intorno ai 120 di vita, e mi sembra poco più di 130 fianchi, non mi ricordo, Paola prima dovete sentire le misure, poi ordinate, perché sennò poi ritornando indietro, noi buttiamo i fogliettini delle misure, e poi che facciamo, ci mettiamo là a misurare in diretta, ci rimane un po' scomodo insomma, ascoltate prima le misure, poi prenotate l'articolo, così siete sicure, soprattutto di non sbagliare, allora, ok ci sto, va bene Paola, anche io, io non ho fatto niente, ma che è? che stai da fare con i due? si fa male da sola, ma c'è che vedo quella che sta da sola? che è successo? oriaga, come è proprio? allora, altro giro di cappotti, altro giro di cappotti, eccoci qua, però ragazze, le gomme sono belle, sono belle veramente, belle anche le fantasie, un bello stivaletto, allora ragazze, cappottino, in sconto, a 23,90 euro, carinissimo, con colletto, e finiture, in pelliccia ecologica, 160, 180 seno, perché vedete, è a pipistrello, 130, 160 fianchi, lunghezza, 80, ne ho solo, uno pordo, uno con il blu, uno bellissimo, panna, questo è per gioia, chissà se c'è ancora gioia in linea, questa è lei, e poi, con il grigio, quattro colori, ragazze, approfittate, 23,90, sono belli, comodi, caldi, panna e pelle, allora, leggo blu, per Nausicaa, e gioia, panna, gioia, io ti conosco, eccoci, è bellissimo, lo so che è per te quello, l'ho pensato, quando l'ho visto, allora, Elisabetta, non ce l'hai fatta, con panna, perché l'ha preso, gioia sopra di te, è rimasto, rosso, bordeaux, e grigio, pure grigio è bello però, eh, ragazze, anche grigio, è molto carino, ma anche bordeaux, perché c'ha una bella tonalità, di colore di pelliccia, sopra, la pellicciotta, c'ha una bella, cosina lucida, che c'è ti, ma perché ogni tanto, sento qualche lagna, assolutamente, barresi, barresi grigio, ok, solta barresi grigio, fatto, allora ragazze, poi vi faccio vedere, una camicia meravigliosa, bellissima, con la sua canotta sotto, disponibile, maculata, con le righine, vedete, e zebrata, sono due pezzi, canotta, più camicia, sopra, sono staccate, le misure sono, 140, 160, seno e fianchi, lunghezza, 77, e questo due pezzi, mi scende, a 19,90, zebrata, arricchine, e maculata, tre fantasie diverse, vedete, è trasparente, ma sotto c'è la canotta, sono due pezzi, non è nulla, e due, bellissime, approfittate ragazzi, perché c'è da 30 euro, 10 euro di sconto, c'è claudio e salvatore, maculata, io c'ho Ezia Brucia, però è arrivato prima, prima lei, ok, è il nome lunghissimo, maculata, Ezia, maculata non ce l'hai fatta, se vuoi c'è, a righe, 19,90, o zebrata, tanto sono tutte belle, ragazze, manco si nota, sono bellissime, cioè, a prescindere dal disegno, allora, vediamo un attimo, ragazze, ultime due, eh, quella penna, gliela buttiamo via, così la smette, allora, ragazzi, adesso invece ho, dei gilet, questa volta, non più in ecopelle, ma questa volta, in lanetta, molto molto carini, qui abbiamo lo sconto, a 14,90 euro, mi fanno, 110, 150 di seno, e posso dire, di vita, perché ai fianchi, ovviamente, non arriva, lunghezza, 57, 14,90, vabbè, a voi sì, però, da persone normali, ottaneo, a me corre per i bianchi, ti puoi vedere, il cappotto, bece, quello bordeaux, sì, Patrizia, un attimino solo, allora, bordeaux, marrone scuro, panna, ripeto, sono in lanetta, lilla, e, verde, 14,90, allora, il bordeaux, eccolo, Patrizia, scontato, a 23,90, Assunta dice, scusa, me lo dai, bordeaux, invece de grigio, eh, però, me l'aveva chiesto, Patrizia, intanto, dammi il, per favore, il gilet marrone, per Annalisa Perillo, ok, poi, il cappotto beige, eccolo qua, però attenzione, perché questo fa 120, 140, seno e fianchi, lunghezza 87, non so se è per te piccolino, Patrizia, non mi ricordo le misure, la camicia a richine, è la prima che, in mano Silvia, Francesca Fanfoni, Patrizia dice, dammelo, il bordeaux, penso di sì, il bordeaux, giusto, ok, allora, la camicia a richine, qual è la camicia a richine, ah, scusa, questa, eccola qua, Francesca Fanfoni, ciao Silvia, buonasera, mi dai il gilet bordeaux, per Sara Spasiano, eccolo, Saretta, per te, ok, allora, la camicia con la canotta sotto, è rimasta questa, con il disegno zebrato, ok, l'ultima, Patrizia dice, no, è piccolo, eh, Patrizia, io ti ho dato il bordeaux, che è grande, invece il bordeaux è piccolo, quindi, confermato che il bordeaux è tuo, giusto, dimmi sì o no, Patrizia, allora, il gilet invece è rimasto, verde, camicia zebrata, per Eleonora Montana, eccola, allora, dicevo, è rimasto, verde, lilla, e panna, Patrizia dice, ma non è, ecco, benissimo, ok, allora, andate i cinque minuti, vi faccio vedere qualche altra, cosina, allora, altri due, altre due felpette, ragazzi, questa volta, vedete, con grande tasca davanti, prezzo scontato, soltanto 14,90 euro, sono a costine, ottaneo e nera, 130-180, seno e fianchi, lunghezza 70, solo due colori disponibili, ottaneo e nero, tessuto a costine, poi, ottaneo e simona granata, ok, eccolo per simona granata, nera perlina scalise, ok, finite, stop, poi, completi, ragazze, completi in lanetta, due pezzi, scontati a 22,90 euro, vestibilità fino alla 58,60, giallo, viola, e grigio, considerate che seno e fianchi, arriva oltre i 170, della casacca, e la lunghezza della casacca è 85, i pantaloni di vita partono da 80, e arrivano a 180, lunghezza del pantalone 106, 22,90, grigio per Eleonora Montana, giallo per gioietta nostra, per me grigio, è andato via Monica, mi dispiace, è andato via sopra, è rimasto solo viola, l'ultimo, santinon viola, perfetto, finiti, stop, certo Anna, assolutamente, allora, poi, ultimi leggings, questa volta in tessuto pile, quindi belli caldi, ragazze, stracomodi, anche come misure, parliamo di, da 100 di vita fino a 160, fianchi partiamo da 120, a oltre 160, lunghezza 98, in pile, e sono in sconto, da 20 euro, la bellezza di 12,90 euro, ne ho solo uno viola, uno verde militare, uno arancio, bordeaux, grigio, e ottanio, e ottanio, ragazzi, approfittate, perché questi sono comodissimi, cioè, addirittura, vi consiglierei, anche per casa, pure per casa, comodi, veramente, al posto della tuta, eccetera, eccetera, mettete questi belli, caldi, stracomodi, Michela, Valentini, grigio, eccolo, da 10,90, va bene Roberta, ciao, Francesca, grigio, è già andato via, ho preso Michela, ottanio, bordeaux, arancio, verde e viola, ultimi colori, da 20 euro, in sconto, 12,90, arancio, per gioia, viola e bordeaux, per cocotti, Carmen, ciao Carmen, eccoli qua per te, Patrizia, ho solo ottanio e verde militare, se vuoi, intanto ti do l'ottanio, Francesca Capri, il verde, stop ragazze, finiti, ho detto a altavoce, i nomi di chi ha preso questi articoli, ragazze, non abbiamo finito, qualche altro minutino, e poi ci fermiamo, allora, Maxi Casacca in lanetta, bellissima ragazze, con questo disegno argento, oggi è in sconto, a soli, 12,90 euro, 130, fino a 180, di seno, sui fianchi, mi parte da un 160, e mi va oltre, 190, lunghezza, 80, una con il beige, grigia, biscotto per Bianca Maria, eccola, blu per Pina De Giorgi, eccola, poi c'è Bordeaux grigia, a Bordeaux su due, ok, e verde, quindi una verde, due Bordeaux, e una con il grigio, 12,90 ragazze, Bordeaux per Patrizia Epifani, ce n'è anche un'altra Bordeaux, se qualcun altro la vuole, ultimi tre colori, eh Sonia, oggi no, non ho fatto in tempo, col fatto delle borze, che abbiamo perso tanto tempo, ci rifaremo la prossima volta, non ce la faccio, sono quasi le 19,30, anche noi, insomma, da stamattina presto, allora, grigia, la faccio rivedere, poi, le pansini Isabella a Bordeaux, Bordeaux per Isabella, allora, ultime due, grigia e verde, 12,90, allora, intanto, poi, qui abbiamo, ultimi, tre piumini, bellissimi ragazze, ciao Valeria, bellissimi, veramente, allora, questi da 59,90, ovvero, 60 euro, sono scontati, a 49, cioè, 20 euro in meno, ragazze, parliamo di roba nuova, 140, 150 seno, idem fianchi, lunghezza 83, abbiamo la fantasia 2, che è questa, la fantasia 3, guardate che bello questo qui, meraviglioso, e l'ultimo, numero 4, guardate che, cioè, belli veramente, ragazze, belli veramente, 49,90, eh? 49,90, sì, 49,90, ragazze, bellissimi, Carla Poponi, il 2, bello, ottima scelta, Carla, eccolo, a parte, sono tutti belli, eh? Guardate che meraviglia, questo, io lo amo, bellissimo, questo, invece, lo trovo facilmente abbinabile, furbia, è andato via al 2, l'ha preso prima Carla, prima di te, anche questo, lo trovo, molto facile da abbinare, questo perché è neutro, questo perché c'è tutti i colori, panna, marrone, nero, è rimasto, il 3, e il 4, ragazze, non me li fate sfuggire, perché sono belli, veramente, piumini, favolosi, 3 per Assunta Barresi, eccolo per te, Assunta, fatto, mi rimane l'ultimo pezzo, che è il numero 4, Carla dice, scusa Silvia, quello a fiori, è andata via Carla, allora levalo, e lo dai a Fulvia Venente, il numero 2, nero, Fulvia, il giubbottino, il numero 2, nero, l'hai avuto tu, Assunta Barresi, mi puoi levare il cappotto grigio, sì, ma lei lo voleva a bordo, quindi che faccio, gli lascio il grigio, perché il bordo non c'è più, allora Assunta, il cappotto a bordo non c'è più, quindi io ti levo il grigio, ma il bordo non ce l'hai, perché è stato prenotato nel mentre, io se vuoi lo levo, però tu quello bordo di questo, non ce l'hai, perché è stato prenotato, allora, quindi Fulvia Venente, ha avuto il numero 2, giusto? Ok, poi quello lì, di chi era? Con i fiori? Barresi, Assunta, Assunta Barresi, quello, ok, allora, c'è qualcuno che voleva, questo che era, questa che era Patrizia Natale, non mi vorrei sbagliare, non lo so, ok cosa Assunta, lo levo comunque il grigio, ok, allora, c'è qualcuno che voleva, il cappottino grigio, quant'era questo? 23,90, non me lo ricordo, e poi qui mi rimane, il numero 4, di questo qui, Allora ragazze, poi ultimi due blazer, uno bordeaux, e uno marrone, scontati a 14,90 euro, manica riccia, vestibilità da un 120, a oltre 150 di seno, e oltre 160 fianchi, tessuto jersey, solo due pezzi, 14,90 euro, colori nuovi, bordeaux e marrone, pina de Giorgi marrone, eccolo pina per te, rimane della, della blazer, solo il bordeaux, non vale, io appoggio queste qui, allora, io direi a questo punto, ah ma aspetta, voglio fare di questo, ma questa, perché sta a far più, ecco perché, non c'erano le misure, va bene, allora arrivo subito, bordeaux per panzini, cosa il bordeaux, ok, eccolo, fatto Isabella, Silvia scusa, ho preso il giubbotto, me lo fai vedere, ma l'ha avuto l'assunta? quella fantasia, sì, eccolo, assunta, questo qui, allora, poi ragazzi, ehm, giacchettino mantella, guardate che meraviglia ragazzi, questo sta, 30 euro, ehm, scontato, 19,90, in lanetta pesante, ok, è vero, c'è ragione, gioia, no cosa, assunta, assunta, questo hai detto, hai detto quello a fiori, assunta, non ci stiamo capendo niente, abbi pazienza, ma dopo tre ore di diretta, che cosa no, scusami, l'altro, che vuol dire l'altro, tu hai fatto levare, quello con le scritte, e hai detto quello con i fiori, e noi abbiamo cambiato, dammeli un attimo, eh sì, però non è che gli altri, stanno a disposizione, eh, leviamo gli altri, mettiamo, dammi pure quello, per favore, no no, vabbè, lasci così e basta, eh, allora, assunta, tu avevi preso questo nero, hai detto no, perché voglio quello con i fiori, e ti abbiamo dato questo, adesso hai detto no a questo, quello che hai lì, non c'è i fiori, è l'acquilato, ma questo non ce l'hai i fiori, assunta, ma così a noi ci rimbambisci, mica ci stanno i fiori, cioè, fermo restando che io te lo do, non è un problema, però per farti capire che questo non ha i fiori, quindi ti devo dare questo, ok, allora, questo, è per assunta, questo con i fiori, chi lo voleva? che era il numero tre, aiutatemi ragazze, chi è che voleva il piumino numero tre? no, era quello con le scritte, ma sei sicura? eh, va beh, il numero due è di fulvia benente, il nero, ok, c'era qualcuno che voleva il numero tre con i fiori? perché mo' a sto punto io non mi ricordo più, va beh, io lo lascio lì, qualcuno se ascolta, lo può prendere, allora, poi dicevo, mantella in lana, così chiudiamo, prezzo scontato, 19,90, siamo oltre i 180 di seno e di fianchi, una lunghezza di circa 75, marrone, ottaneo, queste pure sono molto belle, eh ragazze, poi magenta, e grigio, guardate che belle ragazze, 19,90, venivano 30, ok? azzurro per Elisabetta Fornari, eccolo Elisabetta, Antonella Stavoglia ha scritto Poponi, e Poponi che? no, no, dice no, ah lo voleva Poponi? eh io non lo so, che numero è? che? quello, quello era il numero tre, però pure Teresa dice che era Carla Poponi, adesso torno indietro ma non mi fa andare, tu volevi il numero tre? Carla Poponi voleva il due, ah ok, allora Elisabetta Fornari dice, no, ottaneo azzurro, ma che cosa Elisabetta? ma che cosa? la mantella è quella, la mantella è solo quella, Elisabetta, madonna, ma ora fine serata, Elisabetta, te lo do Carla, perché tu avevi scritto numero due, eh? allora dagliela a Carla, che? ai fiori, questo? ok, è 49, giusto è 90, giusto? sì, poi l'ultimo, allora a posto, sì sì, la Carla ha scritto proprio con i fiori, a posto, allora, ora dobbiamo capire, Elisabetta Fornari ha scritto, no, ottaneo azzurro, eh ma questo è con l'unico colore, la maglia basta che azzurro, Elisabetta, questo è il colore, mo' chiama l'azzurro, chiama l'ottaneo, chiama la verde, per me è questo, la vuoi o no? eh non lo so, per me è una specie di ottaneo, però magari c'è chi la chiama blu elettrico, dimmi se la vuoi Elisabetta, allora ragazze, io a questo punto mi fermerei, perché insomma so più di tre ore, basta, non ce la faccio più, anche perché vedo che nascono i problemi, a quest'ora, chiudiamo, siamo tutti stanchi, basta, allora, iniziamo un po' tutte, eh sì, a sbalvolare, allora ragazze, io vi auguro una buona serata, grazie per questa bellissima settimana lavorativa, bella, bella, ci sentiamo domani e dopo domani, sia venerdì che sabato, che i pacchi sono tanti, per la chiusura dei pacchi, ricordate che se volete aggiungere qualcosa, di quello che è rimasto oggi, fate uno screenshot col telefonino, inviatecelo al nostro numero Whatsapp, se potete mettete anche il prezzo in sconto, così ci date un aiutino, e potete aggiungere, oppure anche tramite le foto, che sono pubblicate, delle novità, se volete aggiungere, girateci le foto, sempre su Whatsapp, ragazze, vi auguro una buona serata, a domani, ciao ciao, buona cena, ciao,